Buongiorno a tutti coloro che sono collegati e benvenuti al ManSQL Day 2021. Anche quest'anno facciamo un evento in formato digitale per ovvi motivi, ma il successo dell'evento dovrebbe essere più o meno a livelli dell'anno scorso, quando le cose sono andate veramente molto bene, siete stati in tanti a partecipare e ci auguriamo che anche quest'anno troviate l'evento interessante come era stato l'altro anno e anche ricco di spunti per il vostro lavoro. È andata bene l'anno scorso e quindi siamo mantenuti fedeli al principio che la squadra che vince non si cambia, o comunque si cambia poco, e molti dei relatori che incontrate oggi sono gli stessi che avete incontrato l'altro anno, quindi nell'ordine di apparizione li presento uno per uno. Abbiamo Andra Kazaku che è MySQL Key Account Director di Oracle. Buongiorno Andra. Ciao a tutti, grazie per esservi collegati, è un piacere essere anche oggi qui con voi, ci sentiremo tra poco. Michelangelo Berti che è Marketing Manager di Parket. Buongiorno Michelangelo. Buongiorno a tutti, buongiorno ai tanti ospiti, ci vediamo tra poco anche con me. Marco Carlessi, MySQL Senior Sales Consultant di Oracle, che però è mutato. Salve a te, come al solito. Salve a tutti, vi ringrazio della partecipazione, molti di voi mi conoscono, altri spero di conoscerli anche nei prossimi giorni e ci risentiamo nelle presentazioni. Abbiamo un collegamento speciale in questa edizione, abbiamo Tiago Alves, che è Software Engineering Manager di Oracle. Buongiorno Tiago, good morning. Buongiorno a tutti e molto grazie per l'invitation di essere qui. E ultimo, ma solo in ordine di apparizione, Vittorio Choi, MySQL Senior Sales Consultant, sempre di Oracle. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti, un saluto dalla per oggi stranamente assolata Varsavia e ci sentiamo più tardi. Benissimo, questa è la nostra squadra per oggi e quello che volevo sottolineare prima di iniziare è che il mondo dei database in generale, anche rispetto all'ultima volta che abbiamo tenuto il MySQL Day, è diventato per certi versi molto più, passatemi il termine, cool rispetto a qualche tempo fa. Si parla molto di più anche fuori dagli stretti addetti ai lavori dei database, dei database classici, dei database che vengono più o meno a torto ragione, definiti alternativi e si parla tanto anche di mondo database as a service. Sono cambiate le cose, sono cambiate le offerte, sono evolute le tecnologie. E per questo, proprio per dare un punto della situazione su come è evoluto di recente il mondo MySQL, io direi di saltare l'induge e passare subito la palla ad Andra che ci darà appunto uno scenario di quello che sta accadendo. Andra, il palcoscenico è tuo. Ti ringrazio. Ciao a tutti ancora, grazie per esservi collegati, mi dicono dalla regia che siete in tantissimi e questo mi fa ovviamente molto piacere. Io sono Andra Kazaku, lavoro in Oracle da sei anni, seguo la parte commerciale per quanto riguarda MySQL e sono focalizzata su quelli che sono i clienti più strategici di Oracle, principalmente in Italia, ma anche in Spagna e in Russia. Oggi ho preparato una breve presentazione introduttiva su quello che è il mondo MySQL e mi focalizzerò su alcuni degli aspetti più importanti lato prodotto. Nel mondo di oggi, una delle sfide più importanti delle aziende è quella di trovare gli strumenti più adatti per gestire le banche dati sui quali poggiano i sistemi informativi moderni. Questo non solo perché la quantità di dati è aumentata in maniera esponenziale, ma anche perché il dato è il bene più prezioso che un'azienda possiede. E non soltanto i dati interni, quindi quelli relativi ai propri dipendenti magari, ma anche quelli esterni per quanto riguardano i vostri partner oppure i vostri clienti. E in questo scenario diventa molto importante individuare un database che sia in grado a rispondere alle esigenze non soltanto di alte prestazioni, ma anche agli standard di sicurezza, di alta disponibilità e di flessibilità. MySQL è il database più famoso del mondo, non siamo solo noi a dirlo, ma numerosi studi e analisi di fonti esterne, come anche DB Engines. DB Engines è un sito molto famoso che probabilmente già conoscerete, e loro analizzano i sistemi di database e creano questa classifica mensile, prendendo in considerazione oltre 350 sistemi di database. Praticamente esiste un database per ogni caso d'uso. E in questa classifica MySQL è al secondo posto dopo Oracle, e questo ormai da anni, essendo il primo database open source per quanto riguarda la popolarità e la diffusione. E per darvi un altro dato qui, noi abbiamo più di 17 milioni di installazioni attive di MySQL, tra cui i clienti, gli utenti community, quindi coloro che usano MySQL liberamente, gratuitamente, e i clienti che hanno invece deciso di investire in noi. Aziende come Uber, Facebook oppure Netflix utilizzano MySQL da anni e come potete immaginare si tratta di aziende molto innovative, alcune delle quali hanno basato il loro intero business intorno ai dati e hanno anche cambiato in un certo modo il nostro modo di interagire con i dati, di socializzare, di scambiarci informazioni. E di fatti anche noi utilizziamo in qualità di utenti MySQL quando ad esempio clicchiamo mi piace una foto su Facebook oppure guardiamo un film su Netflix. Si tratta quindi di aziende che sono dei veri disruptors e che gestiscono una molle impressionante di dati. Pensate a Facebook che conta più di 2 miliardi di utenti oppure a Netflix con più di 160 milioni di utenti. E queste sono tutte aziende che usano MySQL da anni e se volete approfondire alcuni di questi casi d'uso ci sono le presentazioni come quella di Facebook che si trova anche disponibile online perché loro vengono spesso anche ai nostri eventi e allora con l'open world raccontano come riescono a gestire i dati con MySQL. Adesso vi domanderete quali sono i motivi che spingono i clienti ad utilizzare MySQL. Qui ci sarebbe tanto da dire ma per ragioni di tempo mi soffermerò su quelle che sono le 5 principali motivazioni. Innanzitutto la sicurezza e la protezione dei dati il fatto di essere un database multimodal in grado di gestire operazioni di tipo SQL e NoSQL in un unico database l'integrazione con il mondo cloud native e lo sviluppo dei microservizi il real-time analytics, quindi analisi real-time con il nuovo servizio in cloud MySQL Database Service e Heatwave e ovviamente non meno importante è il costo del prodotto. In questa nuova era dei dati in cui come dicevo inizialmente è molto importante trovare un database in grado di limitare i rischi di perdita di dati MySQL ha creato degli strumenti pensati apposta per la sicurezza. Tra questi vorrei ricordare l'Enterprise Monitor molto utile per individuare eventuali vulnerabilità anche magari di configurazioni, di password, di accessi l'Enterprise Audit per il tracciamento degli accessi l'Enterprise Authentication per l'autenticazione il Firewall per bloccare le SQL Injection l'Encryption per la criptazione dei dati il Data Masking oppure l'alta disponibilità nativa con il NoDB Cluster ne abbiamo parlato tantissimo dell'alta disponibilità nativa anche nell'evento precedente e non meno importante è l'Enterprise Backup sempre per limitare il rischio di perdita di dati che è anche uno strumento molto utile per effettuare backup a caldo incrementali, parziali o totali in base alle vostre necessità. Seconda motivazione è il fatto di essere un database multimodel noi con la versione MySQL 8.0 abbiamo introdotto la parte documentale dando così la possibilità ai nostri clienti che già conoscevano e utilizzavano MySQL di utilizzare MySQL anche per quanto riguarda le operazioni di tipo documentale in un unico database in pratica abbiamo creato un database ibrido dando così la possibilità agli sviluppatori di utilizzare in un unico database e nella stessa applicazione queste due tipologie di linguaggio che storicamente si sono spartiti la gestione dei dati. Integrazione con il mondo cloud native e lo sviluppo di microservizi i microservizi per la loro natura intrinseca sembrano un po' contrapposti a quello che è il database perché sono stateless per la loro transitorietà e nonostante questo MySQL è un database molto adatto a questo scenario infrastrutturale innanzitutto grazie al fatto che come dicevo prima è multimodel ma la sua flessibilità si estende ben oltre poiché MySQL può essere sia utilizzato come parte dell'infrastruttura ma può essere anche containerizzato ed è pienamente supportato anche in questa forma sia in versione community che in versione enterprise per venire incontro maggiormente alle esigenze dei nostri clienti che ci chiedevano degli strumenti per facilitarli nella gestione dei container stiamo anche sviluppando e questa è una notizia che è insomma molto recente stiamo sviluppando il MySQL operator per Kubernetes che sarà presto disponibile sia per la versione MySQL Enterprise Edition quindi per il motorino DB cluster sia per il motore NDB quindi per MySQL cluster carrier grade nella giornata di oggi sentirete di fatti Tiago Alves il nostro MySQL engineering manager per NDB che vi parlerà proprio del nuovo operator e più in generale di NDB cluster e Kubernetes quarto punto analisi real time Heatwave è il nuovo servizio in cloud che abbiamo rilasciato che insieme a MDS MySQL database service il servizio in cloud di MySQL quindi completamente gestito basato sulla versione MySQL Enterprise è in grado di migliorare le performance in modo estremo fino ad arrivare a 400 a un livello 400 più rispetto al MySQL Enterprise classico Heatwave è un motore che vi permette anche di gestire applicazioni di tipo OLTP e OLAP in un unico database e senza dover fare alcun cambiamento applicativo anche su Heatwave ci sarà un approfondimento rispetto nella giornata di oggi e ovviamente se avete casi d'uso adatti a questo servizio ci sarà spazio per le domande anche durante le sessioni Q&A che ci saranno successivamente quinto e ultimo punto ma non per questo meno importante è il costo del prodotto MySQL ha un costo estremamente competitivo e vi permette di risparmiare fino al 90% se confrontato ad altri competitor come ad esempio Microsoft SQL Server e vi ho messo qui anche un link al nostro sito che vi permette di inserire i vostri dati e di calcolare quale sarebbe il costo di MySQL per un determinato periodo e potete anche confrontarlo con altri competitor quando parlo di costo contenuto mi riferisco non soltanto al costo del prodotto insieme ma anche al costo di gestione perché MySQL è un prodotto che è molto semplice da utilizzare e questa sua semplicità implica anche dei costi contenuti poi per la gestione e l'amministrazione del prodotto più nello specifico MySQL si vende con la formula della sottoscrizione annuale che include tutti gli strumenti e le funzionalità di classe Enterprise tutte quelle funzionalità che avete visto prima quando parlavo di sicurezza e ovviamente include anche il supporto tutto questo pacchetto è incluso nella sottoscrizione annuale da un costo che è quello che vedete qui quindi 4.000 euro per un server fisico da 1-4 socket 8.000 euro per un server da 5 più socket poi se ci saranno domande lato licensing oppure di altro tipo ovviamente sono a disposizione sia durante le sessioni Q&A ma anche successivamente sentitevi assolutamente liberi di contattarmi questo è tutto da parte mia grazie ancora per l'attenzione e lascio la parola al prossimo speaker ci sentiamo tra poco grazie Andra credo che sia stato importante che la tua presentazione abbia sottolineato in vari modi un concetto fondamentale cioè il fatto che il mondo MySQL è comunque perfettamente allineato con quelle che sono le evoluzioni in generale della tecnologia e dell'e-t in particolare credo anche che il 2020 con tutti i suoi eventi negativi ci abbia dato un segnale positivo in questo senso ossia che le imprese sono sempre più convinte sempre più hanno assorbito il concetto che la digitalizzazione è un aiuto sappiamo che molte aziende hanno potuto operare nel 2020 normalmente o quasi grazie alla tecnologia grazie a nuovi servizi grazie anche al cloud ed è importante che le piattaforme siano poi evolute in maniera da supportare queste necessità questo però introduce un altro tema di cui parlerà Michelangelo che è il tema della migrazione nel senso che le proposte sul mercato sono tante i clienti fanno le scelte che ritengono corrette in un dato momento ma a volte bisogna anche guardare forse un po' più avanti e questo ci porta al punto cioè che a volte ci si trova in alcune situazioni dove ci si rende conto che le scelte vanno modulate in funzione delle proprie necessità è un fil rouge che è un po' collega a tutte le piattaforme IT in generale in questo caso noi vediamo anche dal punto di vista dei media diciamo un punto di vista neutro che è una problematica che molti stanno affrontando anche per prepararsi a un tasso di digitalizzazione che aumenterà appunto perché portare nuove tecnologie in azienda nuovi servizi in azienda è sempre più fondamentale quindi io a questo punto coinvolgerei Michelangelo a raccontarci quella che è la sua esperienza da questo punto di vista grazie Francesco intanto inizio il mio intervento salutando e ringraziando i numerosi partecipanti a questo evento abbiamo come diceva lui abbiamo deciso di replicare anche quest'anno perché l'anno scorso è stato successo e il numero di iscritti conferma questo interesse verso il nostro evento e in particolare verso MySQL intanto io sono Michelangelo Berti e coordino le attività marketing di Partec ormai mi conoscerete sicuramente avrete sentito la mia descrizione più volte mi ripresento per chi ancora non ha avuto questa opportunità una vita fa sono stato un tecnico e prima di passare al marketing ho lavorato nella prevendita e nel technical marketing nel corso degli ultimi vent'anni mi sono occupato di infrastrutturetti in ambito telco di cloud computing sicurezza e privacy compliance prima di entrare nel vivo della presentazione vorrei raccontarvi veramente in un minuto chi è Partec l'azienda che oggi rappresento a più di vent'anni dalla sua fondazione Partec è considerato uno dei system integrator più attivi della scena open source italiana sia un gruppo che ad oggi riunisce cinque aziende e comprende oltre 200 collaboratori che sono distribuiti tra le varie sedi di Roma e Milano ma in questo momento specifico direi molte più sedi visto l'esigenza del remote working che si è venuta a creare la nostra offerta include prodotti competenze e servizi negli ambiti dell'infrastruttura IT delle soluzioni verticali dedicate al mercato finanziario l'industria 4.0 security educational e molto altro ancora la collaborazione con Oracle è iniziata ormai undici anni fa ma a radici è ancora più lontane perché l'attuale business inuti di Roma nacque negli anni 90 come partner di riferimento di Sun Microsystems e operava principalmente nel mercato delle telco italiane dall'epoca siamo cambiati tanto e siamo passati da una competenza che all'epoca era incentrata su Solaris ad un ampio ventaglio di competenze che coprono anche il mondo dei database Oracle da diversi anni siamo Oracle Partner con la specializzazione specifica su MySQL 8 come potete vedere dalla lista dei clienti possiamo vantare una forte presenza nei mercati telco e finance e vantiamo anche diverse collaborazioni con i principali sistemi integrator ma i mercati telco e finance non sono gli unici ai quali ci rivolgiamo potrete facilmente riconoscere i nomi di alcune realtà in ambito pubblica amministrazione sanità e non solo partiamo con una domanda abbastanza tipica quello che vedete nella foto è un DBA che con grande sprezzo del pericolo affronta una generica migrazione da un DBMS completamente diverso magari più blasonato di MySQL chi mi conosce sa bene che ho la tendenza a mettere le mani avanti per evitare fraintendimenti di qualunque tipo nel nostro team non ci sono artificieri le migrazioni di questo tipo sono fattibili ma richiedono tempo e soldi e soprattutto hanno senso solo quando sono inserite in un contesto molto più ampio della mera migrazione del database noi di fatto non sponsorizziamo e non eseguiamo migrazioni di questo tipo al di fuori dei casi che vi ho descritto sia chiaro io sto parlando di migrazioni complete e non delle classiche procedure ETL cioè una banale copia di dati da sorgente a destinazione magari con una trasformazione intermedia si tratta di una scelta di buon senso che mette a riparo sia noi che il cliente da situazioni poco gradevoli come l'esplosione del database e dei suoi dati scusate sta andando ok le migrazioni più sensate e frequenti sono quelle che coinvolgono piattaforme open source alternative due in particolare per con a server che è un fork di mysql che ha mantenuto un elevato livello di compatibilità anche grazie al costante allineamento con il codice rilasciato dalla comunità mysql in questo caso lo storage engine di riferimento è extra db un fork di inno db col quale è ancora compatibile poi abbiamo maria db un altro fork molto famoso che per alcuni anni è rimasto allineato a mysql ma dalla versione 5.5 in poi ha scelto una traiettoria abbastanza diversa utilizza lo storage engine aria un'evoluzione di myisam col quale però non è più esattamente compatibile ma supporta anche extra db quello predefinito in percona l'abbiamo visto esiste anche un terzo competitor che però non possiamo propriamente definire alternativo si tratta di mysql community edition capita spesso infatti che un cliente prenda confidenza con la versione liberamente scaricabile e poi a fronte di nuove esigenze scelga di passare alla versione enterprise io ho usato il termine fork dando per scontato che fosse noto a tutti nel dubbio sappiate che un fork è un nuovo progetto software che parte dal codice sorgente di un progetto già esistente nel software libero è abbastanza frequente che le comunità si dividano e diano vita a progetti alternativi nulla di strano ragioniamo scusate ragioniamo sulla non scelta iniziale non so voi ma io in genere prima di suggerire a qualcuno di mettere in discussione una sua scelta cerco di capire i motivi che l'hanno spinta a compierla a volte basta un rapido scambio di battute per capire se c'erano delle valide motivazioni tecniche o se come capita molto spesso si è trattato di una non scelta parlando di database e nello specifico di database open source ci siamo spesso trovati davanti a 5 scenari ben precisi vediamoli insieme il primo caso è quello del progetto temporaneo un tipo di progetto che dovrebbe durare da Natale a Santo Stefano e che invece poi ha successo diventa improvvisamente mission critical e a volte viene tramandato di padre in figlio in questo scenario si utilizzano componenti a caso perché in quel momento uno vale l'altro il secondo caso è quello in cui il database era preinstallato perché era quello di default all'interno della distribuzione Linux utilizzata o perché era incluso con un pacchetto software che magari dovevamo utilizzare è un po' come quando si usava Internet Explorer non per scelta ma perché alla fine era quello preinstallato su Windows il terzo caso è il classico lo avevamo già usato magari in una precedente esperienza professionale o in un progetto completamente diverso e quindi è stato selezionato senza riflettere sulle reali esigenze ma semplicemente per comodità fatemi dire a volte però troviamo anche delle scelte non consapevoli basate su l'articolo di un blog o su poche parole scambiate in un forum sono tipicamente scelte frettolose fatte di getto ed è per questo che io le considero non scelte al pari delle altre è un po' come quando afferriamo uno snack dagli espositori che si trovano accanto alla casa del supermercato è una scelta istintiva non è fatta ragionando all'ultimo posto di questa mia personale classifica troviamo una scelta al contrario cioè quella basata sul pregiudizio basta che non sia X se prendiamo il caso di MySQL ci è capitato che qualcuno si dichiarasse contrario alla sua adozione perché fermamente convinto che non fosse un vero database open source o che alla fine della fiera andasse bene soltanto per il blog personale e non per un progetto ben più ampio giusto per la cronaca sono entrambe affermazioni errate la prima domanda che ci pone un cliente è perché dovrei migrare è una domanda lecita e non possiamo certo rispondere perché MySQL è il database più figo di tutti sarebbe abbastanza banale a volte la risposta arriva prima ancora che ci contattino i nodi vengono al pettine all'improvviso esplode la bomba e veniamo interpellati per risolvere un qualche tipo di disastro questo fortunatamente è un caso estremo e francamente non lo auguriamo né ai clienti né ai nostri DBA che poi devono partire a sirene spiegate per spegnere il famoso incendio sia chiaro io non penso che l'utilizzo di un database diverso da MySQL sia la causa di queste esplosioni quel genere di incidenti è sempre frutto delle non scelte di cui abbiamo parlato poco fa e spesso anche da una carenza di competenze specifiche ricordate il caso del progetto temporaneo che diventa mission critical questo è uno dei casi in cui le esigenze cambiano e le aziende realizzano di dover valutare delle alternative vediamo insieme quali sono queste esigenze intanto dobbiamo rispettare delle normative sulla protezione dei dati ad esempio il GDPR o la famosa PCI DSS del settore finanziario in passato ho spiegato che protegge il database è come difendere un castello continuamente attaccato dall'interno e dall'esterno io ribadisco ancora una volta l'importanza della cifratura dei canali di comunicazione e la cifratura del table space e dei singoli dati in alcuni casi non è più possibile proseguire con un backup logico che come sappiamo è lentissimo e pesante e non ci consente di fare backup incrementali differenziali il termine lentissimo è molto generico per questo vi ho riportato questi due benchmark che mostrano le norme differenze prestazionali tra il classico MySQL dump e il MySQL Enterprise Backup può capitare può capitare che nel corso degli anni l'infrastruttura cresca e diventi sempre più complicata da controllare perciò abbiamo bisogno di strumenti di monitoraggio specializzati che siano integrati tra loro per lavorare in modo semplice ed efficiente all'improvviso può nascere l'esigenza di passare ad un approccio multimodale SQL e NoSQL ne ha parlato Andra poco fa e questo è un requisito che oggi può essere pienamente soddisfatto soltanto con MySQL non so ogni tanto ultimo ma non ultimo c'è il discorso del supporto le soluzioni supportate dalla comunità di sviluppo sono perfette per chi ha tempo ad investire e soprattutto adeguate competenze specialistiche ma se uno di questi elementi viene a mancare o se siano degli SLA veramente stringenti non ho toccato niente ve lo giuro o se siano degli SLA molto stringenti conviene valutare un supporto di tipo Enterprise che ci metta a riparo da spiacevoli inconvenienti è doveroso precisare che il supporto sul prodotto è diverso è molto diverso da quello offerto con le distribuzioni Linux commerciali quest'ultimo è tipicamente limitato al bug fixing del package all'interno del repository del vendor all'installazione e a qualche elemento della configurazione di base ma non copre assolutamente problemi specifici del database nonostante queste validissime motivazioni capita di dover affrontare diverse obiezioni anche se la subscription standard di MySQL Enterprise Edition costa una frazione di altri database più blasonati ve l'ha già detto Andra ci si può trovare davanti al classico problema di budget in questo caso vale la pena ricordare la differenza tra prezzo e valore il prezzo è ciò che paghiamo il valore invece è ciò che otteniamo con una subscription Enterprise abbiamo accesso al supporto possiamo usare tutti i tool della piattaforma MySQL e andiamo a risparmiare i costi di un secondo database dedicato al mondo NoSQL il problema della disponibilità di competenze interne come spesso capita il cambio di abitudine è ancora oggi uno dei freni psicologici più difficili da scardinare in diverse occasioni al progetto di migrazione abbiamo infatti affiancato dei corsi di formazione e del training on the job con l'obiettivo di facilitare la transizione e assicurare la piena autonomia del reparto utile del cliente questo anche per evitare il classico lock-in che si fa sui clienti l'ultima obiezione è quella meno soggettiva perché riguarda gli aspetti tecnici è più che ragionevole infatti chiedersi se ci siano dei problemi di incompatibilità con le applicazioni o se peggio ancora ci sia il rischio di perdere dati prima di lanciarsi a capofitto in una simile operazione è importantissimo fare un assessment che aiuti a verificare una serie di punti vediamo assieme quali sono i punti da verificare anche quando si parla di database le dimensioni contano la migrazione di un database di qualche terabyte presenta delle insidie non trascurabili pensate ad esempio al tempo richiesto per effettuare soltanto le prove di backup e restore lo abbiamo visto un attimo fa si può parlare di tante tantissime ore a meno di trovarsi davanti a un'installazione a singolo nodo dobbiamo prestare molta attenzione alla soluzione di alta disponibilità utilizzata sia per Kona che MariaDB usano il famoso plugin galera che consente di creare un cluster multimaster molto molto simile alla group replication di MySQL in fase di migrazione però è fondamentale verificare che il precedente caso d'uso sia replicabile senza impatti un esempio su tutti l'uso della group replication su connessioni geografiche è sconsigliato attualmente quindi vale la pena assicurarsi che non sia quello il caso d'uso che dobbiamo verificare il terzo punto riguarda la scelta dello storage engine un passaggio delicato anche quando si rimane sulla stessa piattaforma molti di voi probabilmente l'hanno già vissuto migrando da MyISAM a InnoDB ad esempio quando hanno deciso di attivare la group replication ecco il passaggio da extra db di percona a InnoDB è sicuramente lo scenario più semplice in quanto sono compatibili purtroppo non possiamo dire lo stesso per gli engine specifici di MariaDB che come abbiamo visto non sono supportati in MySQL ricordate sempre che il database è il quale delle applicazioni quindi non possiamo trattarlo come un mondo a parte dobbiamo controllare con attenzione le configurazioni delle nostre applicazioni soprattutto quando abbiamo configurazioni in replica dove distinguiamo i nodi tra i nodi usati per la lettura e quelli per la scrittura la replica però non è l'unico aspetto in quanto potremmo avere differenze importanti ad esempio sulla collection dei dati o sui valori di default ecco una volta fatta una migrazione di test è bene verificare che sia le query sul database che le nostre applicazioni restituiscono esattamente i valori attesi infine tenete a mente che l'export dello schema MySQL potrebbe non essere supportato in generale è consigliabile evitare l'export degli schema di sistema perciò gli utenti vanno esportati a mano con uno script o un tool che ricrei iddl di creazione degli utenti cioè gli statement che poi andranno rieseguiti sul sistema di destinazione una volta smarcati questi aspetti possiamo finalmente decidere come migrare inizio subito col darvi una brutta notizia lo so non esistono delle procedure ufficiali per eseguire una migrazione c'è una buona notizia però ed è che le possibili strategie sono soltanto due l'inplace replacement è quella più semplice tra le due di fatto è l'equivalente del classico inplace upgrade che facciamo ogni volta che dobbiamo installare una nuova versione di MySQL quando si può utilizzare? va benissimo se usiamo per Kona a meno di utilizzare funzionalità molto specifiche che non sono del tutto compatibili può funzionare anche con MariaDB ma solo sulle versioni più vecchie come la 5.5 ricordate le regole che si applicano a tutti i salti di release non fate l'errore di passare direttamente da una 5.5 a una 5.7 ogni avanzamento di major release deve essere fatto un passo alla volta quindi dalla 5.5 passate alla 5.6 e solo dopo alla 5.7 a fine migrazione sarà necessario verificare parecchie cose tra cui gli script di backup che sono completamente diversi tra un prodotto e l'altro quindi non sottovalutate tutto ciò che c'è a contorno del database la seconda strategia è un po' più articolata ma in estrema sintesi consiste in un backup e restore dell'intero database quando si applica beh ad esempio sulle scusate ad esempio sulle versioni più recenti di MariaDB o più in generale in tutti quei casi in cui le configurazioni sono talmente diverse da non consentire un in place upgrade come si svolge tipicamente beh configuriamo l'ambiente di destinazione cioè prepariamo i nostri nuovi server MySQL eseguiamo un backup logico della sorgente ricordandoci di preparare anche gli statement per ricreare le utenze io vi ricordo che un backup logico contiene tutti gli statement SQL per la creazione delle tabelle e l'inserimento dei dati all'interno infine facciamo il restore sul sistema di destinazione e ricreiamo le nostre utenze armatevi di pazienza perché a seconda della dimensione del database possono volerci molte moltissime ore lo abbiamo visto poco fa quando abbiamo parlato delle differenze prestazionali tra un backup logico e un backup binario anche in questo caso dopo le verifiche iniziali possiamo procedere con la predisposizione degli script di backup e l'avvio delle repliche stavolta dobbiamo anche riconfigurare gli applicativi per farli puntare al nuovo server questo a meno che non abbiate usato le stesse macchine gli stessi indirizzi IP ma non è così frequente ciò che vi ho raccontato rappresenta solo la punta dell'iceberg di un progetto di migrazione ecco perché prima di confermare la fattibilità i nostri DBA eseguono sempre un'analisi approfondita dell'ambiente delle configurazioni e del database stesso non si parte all'arrembaggio in una migrazione finalmente abbiamo completato questa benedetta migrazione e siamo pronti per sfruttare tutte le funzionalità e benefici del nostro MySQL Enterprise Edition nuovo fiammante vediamo quali sono le cose che possiamo fare il primo passo è configurare certamente il backup binario mediante il MySQL Enterprise Backup questo ci consentirà finalmente di abbattere i tempi di elaborazione ed effettuare backup incrementali differenziali se non è stato fatto in fase di primo setup è un buon momento per andare a configurare InnoDB Cluster ed ottenere una disponibilità a 5.9 vi ricordo che per farlo vi servono almeno tre nodi perché non si tratta di una banale configurazione Active Standby il passaggio successivo è impostare il MySQL Enterprise Monitor l'ottimo strumento che ci consente di tenere sotto controllo lo stato delle nostre istanze delle repliche dei backup e molto altro ancora Marco Carlessi ve lo presenterà in dettaglio nel prossimo intervento perciò non vi racconto altro non scordiamoci della sicurezza col MySQL Enterprise Authentication e MySQL Enterprise Audit possiamo integrarci con l'infrastruttura di sicurezza esistente e implementare una serie di controlli di sicurezza conformi alle normative internazionali come GDPR IPA SOX e PCI DSS per il mercato finanziario parlando di sicurezza e compliance non posso non citare nuovamente la Transparent Database Encryption e le funzionalità per la cifratura e l'anonimizzazione dei dati la prima cifra l'intero table space cioè il contenitore in modo completamente trasparente per le applicazioni e gli utenti le altre due invece servono per proteggere i dati anche al di fuori del loro contenitore ok quindi ad esempio quando transitano verso le applicazioni chiudo questa carrellata con lo strumento che preferisco lo dico ogni volta il MySQL Enterprise Firewall si tratta uno strumento che è opportunamente configurato offre una protezione in tempo reale contro minacce esterne come le odiose SQL injections e minacce interne all'organizzazione come il caso dell'abuso dei propri privilegi come potete vedere i vantaggi da accogliere sono davvero tanti tutte le funzionalità e gli strumenti che vi ho citato sono inclusi nella subscription dell'Enterprise Edition che costa circa 4.500 euro l'anno ve l'aveva già detto Andra prima di ripassare la parola a Francesco vi ricordo che avendo partecipato all'evento potete richiedere una giornata di assessment gratuita della vostra installazione i primi 25 che lo richiederanno potranno usufruire di questa attività effettuata da remoto dai nostri DBA specializzati su MySQL per richiederla potete usare il questionario di valutazione finale o il pannello delle domande io vi ringrazio per l'attenzione Francesco a te la parola grazie Michelangelo tu hai citato due o tre volte una parola che secondo me è molto importante e che è un po' uno dei fil rouge di questa giornata strumenti gli anglosassoni usano un termine tool che noi spesso traduciamo con attrezzi e dà proprio l'idea dell'utilità della cassetta degli attrezzi da avere a disposizione faccio una piccola citazione Stephen King che credo non abbia bisogno di presentazioni in un suo saggio che aveva scritto raccontava un episodio di quando era bambino che si era guastato qualcosa nel garage di casa arriva lo zio con una bella grossa pesante cassetta degli attrezzi metalliche di una volta piena di cose poi a un certo punto tira fuori un piccolo cacciavite e risolve il problema e allora Stephen King gli chiede ma scusa ma se il problema era quello perché ti sei portato tutta questa roba e lo zio gli dice perché uno gli attrezzi li deve avere poi se li usa o non li usa dipende dalla condizione specifica o da quello che vuole fare Stephen King scriveva ricordava questa cosa perché questo racconto viene fatto in un saggio sulla scrittura lui diceva voi dovete imparare tante cose sulla scrittura anche se poi magari non le utilizzerete qui parliamo di informatica parliamo di IT Enterprise aziendale e gli attrezzi di nuovo possono fare la differenza al di là delle scelte poi applicative che ogni azienda fa che ogni persona decide di fare e che sono ovviamente tutte lecite quindi cerchiamo magari di approfondire un po' alcuni degli attrezzi che caratterizzano offerte di MySQL in questa fase quelli principali il prossimo relatore è Marco Carlessi e Marco ci parlerà infatti dell'Enterprise Monitor che è uno poi dei componenti più interessanti per chi come diceva Michelangelo passa da una piattaforma a MySQL e Marco io ti lascerei pieno spazio perfetto ti ringrazio io sono Marco Carlessi sono consulente di pre vendita per l'Italia per quanto riguarda MySQL quindi per quanto riguarda le introduzioni tecniche e le presentazioni di questo genere i chiarimenti ai clienti questo c'è sono fortunato in questo lavoro perché ho anche Vittorio che sempre italiano mi fa a volte da backup ho una presentazione molto tecnica in questo momento che si concentra sul controllo dei database attraverso il MySQL Enterprise Monitor di cosa stiamo parlando stiamo parlando di uno degli strumenti che sono inseriti nell'offerta commerciale di MySQL MySQL Community è estremamente potente consente di avere un livello di affidabilità dei database di sicurezza di controllo estremamente elevato non è un caso che MySQL sia uno dei database più famosi e tra i più conosciuti commentati usati eccetera la sua accezione community però ha alcune limitazioni che vengono a galla durante un uso commerciale ecco perché offriamo delle funzionalità avanzate degli strumenti di gestione e un supporto in questa panoramica io andrò a concentrarmi su quello che è il discorso del monitoraggio quindi una piccola parte di questa offerta è però anche la parte che per prima colpisce le persone i clienti perché quando si va a parlare di database idba soprattutto le domande che loro hanno nella loro testa perché gli vengono rivolte periodicamente e che ribaltano un po' a me quando gli faccio una presentazione tecnica sono quelle legate al tuning alle performance o il database lento devo identificare quali sono le query che sono più pesanti come ottimizzare le mie query o le strutture topologiche di alta disponibilità o di reportistica che si basano su quella che è la replica ma un po' tutte una serie di domande che spaziano sulle varie attività e che non da ultimo si riassumono nelle varie compiti nelle checklist che il dba devono andare a soddisfare quindi verificare che le istanze siano attive verificare che le performance siano adeguate nell'attività giornaliera controllare tutti gli impianti dai sistemi di alta disponibilità ai sistemi di replica backup eccetera monitorare il tutto e verificare che stiano funzionando in maniera coerente e tenere sotto controllo ovviamente anche la parte di sicurezza che non è certamente l'ultima all'interno di un'infrastruttura di database ne ha già parlato Andra sottolineando come i database contengono il cuore delle aziende perché sono i dati l'ha ribadito Michelangelo quando ha parlato di sicurezza ne abbiamo parlato anche negli altri incontri dicendo attenzione questo è un punto critico il database è essenziale perché senza i dati l'azienda si ferma non ci sono alternative non ci sono modi gentili di dirlo in questo senso il MySQL Enterprise Monitor offre uno strumento con un'interfaccia web quindi grafica facile da installare e da utilizzare con strumenti di analisi grafica e con informazioni numeriche e descrittive molto immediate e con un'architettura che gli permette di essere adattato sia in ambito on premise che in ambito ibrido cloud o misto uno strumento che può offrire caratteristiche interessanti sia per i DBA ma anche per gli sviluppatori laddove abbiano bisogno di capire un attimino come si comportano le applicazioni come si comportano le query eccetera eccetera anche per architetture complesse perché ha un approccio multitenant verso gli utenti quindi semplici da installare significa che è composto da due componenti uno è il service manager che ha un suo repository interno è il servizio che si collega alle varie istanze e recupera le informazioni proponendole con un'interfaccia web all'utente il secondo componente opzionale è un agente che può essere posizionato all'interno delle varie istanze così da recuperare le informazioni fornirle al manager e in caso per esempio di problemi di rete fa da cash per portarle poi al service manager permette di raccogliere informazioni anche legate al sistema operativo così da incrociare i dati sia di infrastruttura che di database durante le varie analisi con un'installazione che dicevo prima è molto semplice può essere fatta con interfaccia grafica può essere fatta con una riga di comando può essere anche automatizzata in modalità unattended e grazie al suo repository mi permette di avere un'analisi che non sia limitata all'istante puntuale ma va a essere utilizzata anche su casi che sono avvenuti nel passato nel campo dell'analisi delle query dello stato del database eccetera in ambito community ci sono numerosi strumenti che si appoggiano alla performance schema che mi danno informazioni ma purtroppo limitate nel tempo lo stato in cui è il mio database le query che sono in esecuzione in questo momento se devo fare un'analisi nel passato cos'è successo settimana scorsa o come stanno andando i trend questo è più difficoltoso il MySQL Enterprise Monitoring invece va proprio in quest'ottica quindi quando parto all'inizio all'inizio una dashboard che di primo Akito mi dà subito gli elementi per valutare lo stato della mia infrastruttura globalmente non la singola istanza non perdermi nei singoli dettagli ma dammi una visione globale se gli SLA sono rispettati se ci sono segnali di allarme e una panoramica delle connessioni e delle attività se sono in fase di picco in fase di calma eccetera eccetera quindi una prima overview che mi permette poi di andare a controllare tramite centinaia di grafici piuttosto che di informazioni lo stato e l'attività in in corso lo stato non è legato semplicemente al database attivo o spento o al numero di connessioni mi dà informazioni sulla memoria sui lock sui file in uso mi permette di avere una mappa grafica dell'inno di bbuffer pool con le sue strutture e incrociare i dati sia del sistema operativo che dell'istanza stessa a questi dati a queste segnalazioni mi posso anche associare dei sistemi di allarmistica automatica così che il dba o il team di sicurezza o chi altro riceve le segnalazioni specifiche via mail o addirittura vado a integrarlo con strumenti esistenti di monitoraggio sfruttando il protocollo snmp viene fornito un mib per permettere a questi strumenti di capire le trap che vengono ricevute così da essere integrato un po' in tutta l'azienda il tutto ovviamente con un'opzione anche di estensione per aggiungere controlli aggiuntivi piuttosto che grafici che non sono previsti però sono interessanti a livello della mia azienda visto così è interessante un sistema di monitoraggio con dei grafici un sacco di informazioni legate al database in realtà va anche oltre perché mi permette di avere informazioni sulle topologie delle mie repliche senza bisogno di configurarle preventivamente cioè il sistema conosce in automatico se le istanze MySQL sono in replica e graficamente me le mostra con le loro connessioni dicendo chi va verso dove se è una connessione asincrona semisincrona se è una group replication se è un cluster NDB di cui ci parlerà Tiago prossimamente quindi informazioni grafiche ma anche di dettaglio con numeri che mi dicono guarda se ci sono che ci possono essere problemi di lag a livello di una replica piuttosto che l'altra eccetera eccetera in questo contesto non ho informazioni soltanto su quelle che sono le istanze in quanto tali ma anche su quello che è il contorno passatemelo come definizione dei backup perché i backup per quanto non siano intimamente legati all'attività costante del database sono comunque un'attività critica sia perché introducono un overhead a livello di stanza sia perché sono fondamentali per la vita per la business continuity delle mie istanze quindi avere uno strumento che graficamente mi indica gli stati del backup come sono stati eseguiti e li identifica in automatico quindi non devo andare manualmente a impostare come sono configurati i backup da monitorare lui in automatico li rileva e in automatico mi dà le informazioni relative così da semplificare la vita di chi deve amministrare abbiamo parlato del monitoraggio abbiamo con i vari grafici abbiamo parlato del backup sempre in ottica di controllo che va al di là delle performance dell'alta disponibilità è essenziale garantire anche la sicurezza delle mie istanze questo è un punto che a volte viene sottovalutato cioè quando si parla di sicurezza non è sufficiente impostare le password degli utenti non è sufficiente dire io ho impostato un firewall e sto utilizzando degli strumenti di audit la sicurezza è una tematica che deve essere continuamente portata all'attenzione per verificare che quello che io ho impostato all'inizio della mia configurazione sia mantenuto per verificare che non vengano aggiunti utenti che non sono quelli previsti se avviene un cambio di schema a livello del mio database delle mie istanze e non è prevista un'attività di manutenzione deve scattare un meccanismo che mi dica c'è stata un'attività di alterazione delle tabelle e va tutto bene se ho un sistema di audit o di firewall ne parlava prima Michelangelo come il suo strumento preferito il firewall rileva un tentativo di intrusione voglio esserne informato il prima possibile non è sufficiente che sia abilitato e mi abbia bloccato un tentativo di accesso ecco che quindi avere uno strumento che già di suo ha 26 controlli poi estendibili con controlli custom ma ha già 26 controlli sulle principali problematiche del database è di estremo aiuto integrato con gli altri strumenti di tipo enterprise ho già citato il firewall e aggiungo anche l'audit quindi uno strumento che non si limita a dirmi le istanze sono attive ma va anche a darmi indicazioni su come migliorare cioè all'interno del mio monitor ho una serie di advisors di suggerimenti che vanno ad aiutare il database il DBA nell'ottica di dirgli guarda ho rilevato questa problematica questa problematica è importante per questo motivo laddove sia semplice la soluzione mi dice guarda fai questa cosa qua laddove la soluzione è più complessa mi rimanda la documentazione il manuale di MySQL 8 ha superato di un po' le 6.000 pagine e stiamo parlando del solo manuale del database non parliamo dei connettori non parliamo del backup non parliamo del monitoraggio non parliamo di tante cose il solo database più di 6.000 pagine se a questo aggiungiamo knowledge base blog eccetera ci si perde in questa marea di documentazione avere uno strumento che mi rileva il problema voglio indagarlo meglio mi dà già i link per puntare immediatamente alla pagina del manuale piuttosto che a un blog scritto dagli ingegneri piuttosto che la knowledge base mi fa guadagnare tempo mi dà più tranquillità quindi uno strumento che copre dall'amministrazione ai backup eccetera con una guida di come intervenire e come approfondire abbiamo parlato delle istanze il monitoraggio in un certo senso delle istanze si può dire concluso da quelle che sono le osservazioni che ho fatto ma l'attività del DBA non è conclusa una delle cose che il DBA tiene sotto controllo deve tenere sotto controllo è anche l'esecuzione delle query perché è vero che esistono dei parametri di configurazione delle istanze ho configurato l'inodb buffer pool che di default è 128 mega è importante che sia settata mi sono impostato il tuning del mio disco impostando l'IoDirect e ho dimensionato correttamente quelli che sono i redo log tutte le varie attività di preparazione e configurazione dell'istanza durante l'attività del mio database però ci sono le query che vengono eseguite ci sono le applicazioni che lo usano e non sempre conosco in anticipo come si comportano quindi mi serve uno strumento per capire durante l'attività di picco quali sono le query in esecuzione è vero ci potrebbero essere dei lock ma potrebbe essere semplicemente un carico eccessivo e quindi identificare immediatamente se le query quali sono le query che sono più eseguite mi permette di concentrarmi durante una fase di tuning esattamente dove è l'iceberg non la punta di una query che è lenta in per sé ma nell'elenco di tutte le query eseguite in quel periodo specifico tra il frame so che una query è stata eseguita 10.000 15.000 volte un'altra lenta sì ma è stata eseguita una volta sola è più proficuo andare a investire tempo nell'ottimizzazione di quella che è stata eseguita 10.000 15.000 volte che non una singola query che è importante e critica però è una nell'economia globale del mio database pesa poco uno strumento quindi che si chiama enterprise query analyzer che mi raccoglie le query me le parametrizza a differenza dello slow query log presente nella versione community che mi dà mi dice questa query è stata lenta quest'altra è stata veloce quest'altra è stata lenta mi di me le raggruppa me le normalizza e mi permette di identificarle molto più semplicemente correlandole ai grafici io vedo un grafico di picco di cpu lo evidenzio e immediatamente vedo le query selezionate su quel grafico posso quindi concentrarmi sulle cose da analizzare realmente laddove le query sono particolarmente lente mi dà anche il piano di esecuzione automatico così da identificare subito se la query sta usando correttamente gli indici piuttosto che la query mi sta facendo un full table scan se sta controllando un numero eccessivo di record rispetto a quelli che sono quelli attesi eccetera eccetera quindi una risposta a perché è lenta non legata al semplice esecuzione manuale ma all'esecuzione in riproduzione con i dati reali in questo senso dicevo prima può essere molto utile anche per gli sviluppatori perché gli sviluppatori giustamente fanno delle stime su quali sono le query più adatte quelle più utilizzate ottimizzazioni ma finché non è in produzione non hanno il polso di qual è la parte applicativa più pesante più usata realmente dagli utenti questo strumento permette anche a loro di capire qual è la parte critica della loro applicazione vedere come si comportano le query sui dati reali vedere come si comportano le query e quindi andare ad avere anche una stima se le query stanno peggiorando o migliorando esiste un query response time index che è un valore statistico sul percentuale che vi dice le query sono al cento per cento in verde cioè sono all'interno dei tempi di esecuzione che mi aspetto piuttosto che in giallo il diciassette per cento non lo rispettano piuttosto che in rosso le query hanno tutte superato i tempi di previsti di esecuzione per quell'esecuzione in particolare quindi di nuovo uno strumento che passa dal reattivo al proattivo non solo configurazioni suggerimenti sulla configurazione sull'ottimizzazione ma se io vedo che una query passa dal verde al giallo prima ancora che abbia un fermo di database o un'informazione aggiuntiva che ha un degrado di prestazioni quindi con questo io ho fatto una carrellata completa rispetto a quello che è il nostro MySQL Enterprise Monitor e vi invito a provarlo di persona ok grazie Marco direi che la carrellata era particolarmente ricca di elementi e come dicevamo prima di strumenti allora a me piacciono le citazioni adesso ne faccio una un po' più semplice magari rispetto a Stephen King a Napoli si dice lo dico in italiano perché i miei amici di Napoli mi confermano che il mio partenopeo è orribile sono i ferri del mestiere che fanno il maestro allora a questo punto uno dei messaggi che stiamo dando perlomeno che secondo me sta venendo fuori è che passata una certa soglia di complessità che non è necessariamente una complessità architetturale ma può anche essere passata una certa soglia delle cose che si vogliono fare servono gli strumenti giusti per farli bene e soprattutto non si può controllare non si può gestire quello che non si vede quindi anche il tema della visibilità che di solito associamo più alla sicurezza che ai database sta diventando molto importante questa è la cosa che ho percepito io quindi chiederei un commento a tutti voi partendo proprio da Marco visto che ha parlato fino adesso sì allora la visibilità è importantissima sui database perché siamo esseri umani è vero che ci sono mille numeri che sono disponibili all'interno delle nostre istanze però avere uno strumento che mi permette di concentrarmi visivamente con dei colori non perché il colore sia bello ma perché umanamente siamo più reattivi e più predisposti a capire qual è lo stato del nostro ambiente è essenziale da lì poi fare un drill down sugli argomenti specifici io dico non è un caso che quando siamo in strada e stiamo guidando il semaforo ha tre colori rosso verde e giallo deve essere una cosa immediata veloce e poi da lì vedo che è rosso guardo dov'è lo spazio per fermarmi dov'è la riga bianca per fermarmi vedo che è giallo tengo d'occhio quali sono le tempistiche della mia macchina ma il primo messaggio deve essere immediato il mio cervello deve poter reagire velocemente in maniera significativa quindi per questo secondo me la visibilità è un argomento estremamente importante soprattutto quando parliamo del cuore dell'azienda i dati Michelangelo tu sei partito dal tema delle migrazioni ed è quello che abbiamo approfondito però gli strumenti sono importanti in generale anche tu consideri che la dotazione di determinati strumenti incomincia a diventare indispensabile passata a una certa soglia per gli utenti decisamente decisamente per un semplice motivo immagina di essere un DBA ma a volte le aziende più piccole non hanno un vero team di DBA ma hanno dei sistemisti con competenze molto variegate che si districano tra 100 strumenti e 100 problemi diversi mille sistemi e così via quello di cui hanno bisogno è qualcosa che sia facilmente comprensibile anche le persone che come me amano le statistiche senza uno strumento che aiuti anche a interpretare i dati in un modo sensato rischiano di prendere delle cantonate enormi quindi alla fine ti fai delle opinioni ti fai delle opinioni pur basate sui dati ma sono opinioni sballate avere uno strumento che ti dice esattamente come sta girando il fumo se così si può dire all'interno della tua infrastruttura è fondamentale un'altra delle cose che di cui ho parlato anche l'anno scorso se non sbaglio il discorso dei security advisor all'interno dell'enterprise monitor è fondamentale perché per quanto anche il nostro dba possa essere perfettamente formato e informato ci sarà sempre qualcosa che gli sfugge e alla fine chi ti attacca sa tutte le tecniche giuste per farlo avere lo strumento che in maniera semplice e veloce ti dice cosa stai sbagliando e come correggere è fondamentale quindi da questo punto di vista soprattutto per chi non è il dba che fa solo quello ma per chi deve gestire un mondo variegato è fondamentale avere strumenti che rapidamente ti consentono di avere un overview della situazione ti dia anche un consiglio immediato su come migliorare le prestazioni come risolvere un problema come gestire le repliche come migliorare la sicurezza e così via e farlo attraverso quello che gli inglesi chiamano il single pane of glass quindi un unico strumento e non dover aprire sette finestre del terminale e digitare comandi come un forsennato ecco questo secondo me è un valore è un valore fondamentale beh Michelangelo ti assolutamente d'accordo per collegarmi a quello che dicevi tu poi i database sono in certo qual modo vivi per citare un esempio che mi è successo da un cliente stiamo guardando l'enterprise monitor gli sto mostrando un po' alcuni advisor e ne clicco uno che mi salta all'occhio e dico no perché per esempio vedi che qua c'è un allarme che dice che hai degli utenti senza password fa un salto sulla sedia no è impossibile no il mio database è in produzione cioè non ci sono database no no guarda glielo espando e dice guarda vedi ti dice che c'è questo utente questo utente e questo utente vi guarda un attimo va ah è vero è stato fatto dagli sviluppatori un intervento temporaneo con cioè questo è il tuo database questi utenti non è che li ho abbiamo indovinato casualmente i nomi che avevi dentro tu ah sì sì no no però era una cosa temporanea adesso e vedo che prende nota per dire tu hai dato a qualcuno delle autorizzazioni magari anche in maniera temporanea ma non sei sempre lì a controllare esattamente tutto quello che fa quindi questo per dirti una situazione un po' limite però è successa davvero ecco io volevo chiedere ad Andra sempre su questa sulla scia che stiamo tenendo perché Andra ogni volta che ci incontriamo ci dà una positiva prospettiva di crescita della piattaforma ogni volta c'è qualcosa di nuovo e qualcosa di interessante è giusto che sia così ma soprattutto io credo e chiedo una conferma ad Andra su questo che sia una crescita che sta andando esattamente nella direzione non solo dell'evoluzione della tecnologia in generale ma proprio di quello che viene considerato importante dagli utenti mi sembra che quella sia la prospettiva tu me lo confermi assolutamente MySQL si è sempre contraddistinto per la sua facilità di utilizzo ma anche per la sua adattabilità alle richieste dei clienti e delle applicazioni più moderne che hanno esigenze un po' diverse da quelle che erano le applicazioni diciamo monolitiche per esempio parlavo prima del cloud native del mondo dei microservizi abbiamo molte richieste in questo senso MySQL lo vediamo sempre più integrato in ambienti a microservizi ed in questo senso abbiamo creato non solo dei servizi gestiti completamente gestiti in cloud di MySQL ma anche strumenti come appunto il MySQL operator per Kubernetes che i clienti ci chiedono ormai da qualche anno finalmente lo stiamo per rilasciare che è un altro strumento utile per gestire il mondo dei container con più facilità quindi assolutamente siamo flessibili e siamo sempre in ascolto mettendo al primo posto il feedback e le esigenze dei nostri clienti e continueremo a farlo Vittorio tu poi tratterai di un tema specifico che non anticipiamo ma che mi permette di fare una domanda se vuoi un po' filosofica a cui per carità tutti invitati a rispondere non solo Vittorio all'inizio dicevo si parla molto più di database i database sembra una cosa più bella di prima in realtà a parte la mia semplificazione un elemento che credo importante è che le aziende abbiano capito in maniera evidente che il database non è semplicemente passatemi la banalizzazione lo scatolo dove mettere dentro i dati è un componente non solo fondamentale ma anche attivo di certe strategie di digitalizzazione tu hai la stessa percezione? Assolutamente sì in quanto seppur è vero che il database già una ventina di anni fa buoni era stato proposto anche dalla stessa Oracle come da altri come da altri player come il punto centrale dell'infrastruttura dove all'epoca dell'applicazione monolitica si poteva concentrare una certa una certa parte di logica applicativa addirittura poi col tempo la figura del database si è venuta evolvendo ma è comunque rimasta assolutamente centrale all'interno di una infrastruttura e ne parleremo più approfonditamente durante la mia presentazione però si è arrivati a questo proposito oggi a un database che come dicevi giustamente tu non è solamente lo scatolo dove mettere i dati ma è il punto di accesso ai dati che anche a causa della trasformazione digitale che non è solo una bella parola è l'apertura di un contesto aziendale quindi di tutti i dati che esso contiene che ovviamente stanno nei database l'apertura dal classico perimetro a cui hanno accesso pochi eletti tramite al massimo tramite VPN a la propagazione di questi dati attraverso un ecosistema di applicazioni che ne consentono l'accesso a tutti in qualunque parte del mondo e se mi consenti voglio ricollegarmi a quanto dicevano Marco e Michelangelo a questo proposito in un contesto così aperto in un contesto dove l'accessibilità al dato diventa critica sia in termini di operazioni che in termini di guadagno anche perché se i dati sono giù molte aziende perdono e perdono miliardi in questo contesto diventa anche centrale avere visibilità assoluta su tutte le cifre riguardanti il monitoraggio di questa infrastruttura perché passami l'espressione in un mondo in cui nell'ultimo anno abbiamo sentito giornalmente cifre varie e disparate un singolo punto di accesso che permette non solo di accedere le cifre della performance ma anche di contestualizzarle porta il discorso a un livello molto più alto in quanto le cifre senza un contesto adeguato sono nulla non hanno significato le cifre senza contesto quindi ecco il database si sta aprendo verso l'accesso collettivo e in questa prospettiva un monitoraggio centralizzato diventa vitale grazie l'abbiamo coinvolto poco anche per questioni di lingua ma la domanda è concettuale strategica la farei anche a Tiago Tiago something is changing about databases they are not just box to put data in but they are strategic platform on which to build your digital transformation what's your vision about it you are absolutely correct what we are feeling is that people need databases but they want to ignore them as much as possible they don't want to operate them they don't want to deal with the difficulties of having such databases available and this is one of the reasons that we have started this Kubernetes operator as an opportunity to leverage the use of the database by users but decreasing their effort in deploying managing and etc so this is what I feel that is most changing in the databases the other thing is about while mostly sorry I forgot to turn on the camera for a moment the other thing I feel that it's changing quite a lot is regarding the environments where we run the databases so and it's being a shift and it's not still very consensual about it traditionally we deployed the databases in dedicated hardware which you fine tune which you have performance to micro second level specifically in case of for instance of NDB and now we are seeing more and more customers moving to the cloud and there there's a shift where people are saying well database performance is already pretty good for me but now I want the availability being dynamic of the cloud so you're seeing also a bit of shift from this dedicated bare metal hardware that is everything managed manually through more dynamic environments like virtual machine and more and more like Kubernetes environments thanks thanks se volete commentare qualcosa immagino che siamo tutti d'accordo non ci smentiremo a vicenda sarebbe poco elegante oltretutto in diretta dire che l'altro non ha ragione Michelangelo Marco anche voi immagino supportiate questo punto di vista assolutamente assolutamente d'accordo il cambiamento è in atto è anche piuttosto irruento fammi dire stato irruento soprattutto l'anno scorso e forse era anche la svolta di cui avevamo bisogno per superare una serie di resistenze psicologiche oltre che organizzative a un passaggio a un salto ad esempio verso il cloud sia on-premise ma anche cloud pubblico quindi l'operator ma come una serie di altri strumenti stanno contribuendo ad agevolare questo tipo di evoluzione non è un caso secondo me che gli argomenti che abbiamo scelto per questa giornata sono il nuovo ONDB operator tra poco avremo anche l'operator per INODB Heatwave su cloud scenari di uso di cloud sono i temi che sottolineava Tiago infatti adesso ci muoviamo su quella scia lì digitalizzazione tra le altre cose oggi significa anche mondo cloud nativo e il tema che vogliamo toccare con Tiago è proprio il MySQL operator for Kubernetes Tiago the stage is yours grazie ops I think you forgot to pull right il bello della diretta errore mio in realtà abbiamo parlato tanto di migrazione noi abbiamo detto le nostre cose e a questo punto chiediamo a voi di dire le vostre nel senso abbiamo parlato di come sia importante avere degli strumenti che favoriscono e gestiscono e a volte giustificano le migrazioni e vi chiediamo di dire quali problemi invece vi rallentano nel momento in cui parliamo di migrazioni e nel nostro caso specifico parliamo della migrazione MySQL Enterprise Edition quindi il tema della compatibilità delle applicazioni piuttosto che non faccio una migrazione perché mi mancano le competenze o ancora temo che la migrazione sia talmente complessa o onerosa da bloccare la mia operatività e poi c'è il tema delle licenze che in parte aveva anticipato Andra che non è un problema ovviamente ma che viene considerato comunque può essere considerato un fattore di freno mi chiediamo di rispondere indicandoci quello che per voi è il limite principale ad affrontare una migrazione noi poi commenteremo le risposte allora mentre voi date le vostre risposte ho l'occasione di dare due informazioni di servizio perché sono state chieste online sì le presentazioni ma anche poi tutta la sessione saranno consultabili alla fine dell'evento e sì potete fare le domande anche adesso anche se la sessione delle risposte le domande e risposte è alla fine se volete mandarci le nostre domande adesso noi le teniamo in caldo e le affrontiamo poi al termine dell'evento non siate timidi come si dice direi che incominciamo a stabilizzarci per cui non sono Cattelan ma dichiaro chiuso il televoto e vediamo quello che ci hanno risposto gli utenti più o meno risposte equilibrate e mi sembra abbastanza in linea con i temi che sono stati toccati in precedenza un commento Michelangelo vuoi iniziare tu? beh intanto è interessante e non è molto diverso da quello che troviamo sul territorio diciamo la compatibilità delle applicazioni è uno dei temi cardine spesso perché determinate applicazioni soprattutto quelle di tipo enterprise hanno dei requisiti molto precisi quindi non non accettano una certa intercambiabilità del database a supporto come abbiamo detto in alcuni casi ci sono poi degli strumenti delle interfacce assolutamente compatibili in altri no quindi da quel punto di vista una migrazione ha senso soltanto se messa in un contesto più ampio dove ad esempio sto valutando anche un cambiamento dell'applicazione sia se questa qua è commerciale sia se magari l'ho scritta io quindi questo è sicuramente frequente quello delle competenze interne che alla fine è un bel 25% non è non è trascurabile è anch'esso abbastanza frequente e come l'abbiamo risolto lo raccontavo prima noi abitualmente offriamo corsi in aula a casa del cliente adesso anche in virtual classroom visto che siamo da remoto e abbiamo fatto tante volte anche del training on the job questo per aiutare il cliente ad affrontare questa transizione da una tecnologia all'altra senza trovarsi diciamo incapace di gestire il nuovo oggetto chi ha in mano un'altra delle cose che stiamo facendo è proprio per aiutare quei clienti che magari non hanno un IT interno particolarmente corposo offrire il nostro partner control center che è una control room remota per andare a aiutare il cliente a monitorare e a gestire l'infrastruttura ad esempio in modalità H24 quando il cliente non potrebbe farlo proprio perché come diceva Marco come spiegava anche Vittorio e così via il database è il cuore ormai del business lo era già anche prima sarebbe stupido dire che prima non lo fosse però adesso lo è sempre di più e quindi pensare di occuparsene soltanto in orari d'ufficio sarebbe difficile sul costo delle licenze rimango rimango invece un po' stupito magari ci può dire qualcosa di più Andra visto che ha più il polso della situazione su questo aspetto proprio perché in realtà rispetto a soluzioni più blasonate il costo è veramente è veramente irrisorio e soprattutto rispetto a ciò che include perché possiamo magari trovare anche qualcosa che costa meno ma poi ci devi mettere la licenza del monitoraggio il supporto questo e quest'altro e alla fine è la somma che fa il totale quindi da questo punto di vista ci possono essere vari punti di vista magari Andra ci può dire qualcosa di più sì sono d'accordo con te Michelangelo ammetto che anche io sono un po' sorpresa di vedere questo risultato per quanto riguarda il costo solitamente non è mai diciamo un punto critico dato che MySQL ha un costo molto contenuto in confronto a quello che include perché come dicevo prima non ci sono costi separati per le varie funzionalità oppure per il supporto è una sottoscrizione unica che include non soltanto le funzionalità esistenti attualmente ma anche quelle che rilasceremo poi successivamente senza quindi non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda le competenze è un messaggio per noi di migliorare perché vuol dire che dobbiamo diffondere maggiormente il messaggio MySQL in questo senso vi dico che noi siamo disponibili assolutamente per successivamente all'evento per fare anche dei workshop dedicati con ognuno di voi se siete interessati ad avere una panoramica sulla versione enterprise e su come usare i vari strumenti e ovviamente come già diceva Michelangelo ci sono partner come Partec molto specializzati su MySQL che nel caso abbiate bisogno possono aiutarvi sia con la migrazione sia poi nella gestione e nell'amministrazione del database comunque è ottimo che riusciamo a fare instant poll di questo tipo perché questi eventi sono anche un'occasione per noi ovviamente per capire i punti di forza o i punti un po' più deboli e sappiamo così dove migliorare d'oggi in poi Sì il tema delle competenze in realtà noi lo stiamo vedendo critico in tanti settori ed è per certi versi anche un segnale positivo nel senso che laddove aumenta la diffusione delle soluzioni aumenta anche la complessità dei problemi che si cercano di affrontare con le soluzioni a disposizione viene magari più al petti nel nodo delle competenze perché fino a un certo punto si arriva e poi ci si rende conto che bisogna fare qualcosa in più e mancano gli schietti Vittorio un commento Allora dal canto mio mi sembrano dei risultati veramente molto realistici e effettivamente a quello che si riscontra con tutte le opzioni con le prime quattro opzioni abbastanza omogenee tra loro ma a tal proposito consentitemi di dare un'amorevole tirata di orecchie a quanti hanno scelto la risposta C quindi non si migliora per paura di possibili disservizi spero che la presentazione di Michelangelo abbia fatto più luce su come approcciarsi correttamente ad una ad una migrazione anche perché qualora si utilizzasse già MySQL la migrazione alla versione Enterprise è dal punto di vista delle funzionalità preesistenti è abbastanza indolore quindi esorto a non avere paura Marco non dobbiamo avere paura vero non bisogna avere paura anche io sono colpito dal discorso del costo delle licenze perché citavano prima i problemi di cioè problemi i prodotti più blasonati a volte costano di più ma ci sono anche prodotti diciamo meno blasonati per citare i prodotti open source che non sempre hanno le cifre di MySQL a volte c'è la paura c'è dietro la parola Oracle chissà che cosa e invece ho avuto un caso di un cliente che ha mandato faccio sempre questo esempio perché è clamoroso aveva chiesto ma come mai mi avete dato una quotazione non ho capito se è per server per core per cpu eccetera io e il venditore abbiamo sorreso gli abbiamo risposto no guarda ti abbiamo licenziato l'intero data center è rimasto bloccato non ha più detto niente sul discorso dei costi mentre sulle competenze vorrei sottolineare una cosa che a volte non è conosciuta da tutti tutto quello che conoscete sulla versione community è replicato sulla versione enterprise sono 100% compatibili quindi penso se questo è uno dei timori dietro alla risposta B sappiate che non c'è quindi assolutamente si aggiunge ma non sostituisce quello che conoscete ok tiago this time the stage is really yours siamo davvero alla presentazione di tiago prego grazie let me switch for my slides then ok thank you very much so the topic so my name is tiago alvos I've already been introduced thank you very much for the opportunity to be here today I'll be talking about successfully running mysql ndb cluster with a kubernetes operator before diving in ok yes ok now it is working so before diving in into the presentation let me introduce myself since very young I was passionate about software engineering which led me to work in many different engineering projects and roles I have a PhD in software quality metrics working engineering for over 10 years I've joined Oracle in 2017 and I'm now the responsible development manager for the mysql ndb cluster product so what is mysql ndb cluster it's a database a shard and assing database distributed with no single point of failure it has massively linear scale read and write scale out it supports terabytes of data on commodity hardware it's always consistent with transactional consistent across distributed and partitioned data sets it's automatically sharded to sharded distributed data sets with parallel real-time performance out of partitioning that distribution and built-in replication it has five nines availability and has been designed for mission critical systems it supports online upgrades backups and schema changes ease of use it can be deployed as a standalone or as with MySQL server as a SQL front end and finally it is open source and written in C++ our product has been very successful in different industries for instance it connects over 2 billion mobile phone users worldwide in the telecom industry it handles the analysis of 100 million trades every year in the financial industry and it supports over 30 million of active gamers every month in online games so it's very industry proven database why does our customers love us or pick us well there is four reasons normally the top one reason is performance because of the read and write scalability that it's provided second is real time in memory access so we can provide predictable query times at sometimes at microsecond level or millisecond for very complex queries super low guarantee lent as mentioned auto sharding and elastic it's very common nowadays you want your database to be elastic to be able to grow to cope with more traffic or growing of the businesses and we support that off the shelf second reason is consistency so it's always on and it provides consistent acid as well there's global consistent view of data which I'll explain a little bit later cross shard cross replica for in keys we support SQL and no SQL this can be used as a distributed key value we had support advanced joints parallel distributed queries and finally is highly available it is designed from ground up to be highly available and provides a very simple paradigm to access that so the three main industries that we described is where we found more successful use of our product but is by no means restricted to those areas only we have deployments just to name a few of use cases we have deployments in IoT where applications write a massive amount of data and short periods of time we've been are used in shopping cards for durable fast and frequent updates user tracking and monitoring authentication and session management systems in specific case of real-time user verification again due to our performance features user profile and directories reliable real-time information store and messaging system just to name a few of the use cases so how does this work does this works the core principle of MySQL NDB cluster is the data nodes which you can see here at the bottom in this specifically case we are showing a six node cluster with three replicas so we support up to from one to 144 data nodes so you can scale a lot your queries in your performance in your database in your data and we support up to four replicas of data so you can have nodes that can be down or go into maintenance without any loss of service so for instance in this scenario here you can lose up at any two combination of nodes which no impact for your system for your uptime or you can lose four data nodes as long as we keep one data node per node group on top of these data nodes you can have the part that you access your data can be accessed by different ways like I mentioned before with optional MySQL server or with the high performance C++ or Java API just a side note that the way that we integrate it with MySQL server is the same API that we provide to our customers to use and with this API and this way of data layer access this is how we access the partitioning and distribution engine of NDB on top of this access layer is where you build your services or microservices that you deploy for your customers at MySQL NDB cluster we are really strong believers that our database is very suitable for cloud native and the reason is it has been built with the same set of core principles in mind for instance resilience where losing parts of the system should not be a big deal and this is something I mentioned before losing one of the two data nodes in this highly available scenario makes no difference for your uptime or for your service it should automatically recover and heal itself so the term that we normally use is self healing and this is something that MySQL NDB cluster provides already for very long time shared nothing this is something again that it's becoming more and more common in Kubernetes environments where the nodes don't share nothing between us and this is again how MySQL NDB cluster was designed in mind so it can operate without centralized management or any single point of failure no configuration or processes scaling and sharding again mentioned before so our data is automatically distributed it's easy to support scaling out meaning that you add more nodes on commodity hardware not necessarily you have to migrate to a higher performance machine and again we also get a lot of sharding for free so your data is sharded across the available nodes as it is distributed consistency I mentioned that I'll talk about this before so in NDB cluster the data is presented exactly the same way independently of the instance query so it doesn't matter if you have one node or you have 144 nodes no matter what nodes you access you have exactly the same view of data and this happens because the transactions are synchronized between within a cluster so from your application point of view you are seeing your data as a single machine which simplifies significantly the way you build your applications to access your data and finally the standards it should we believe that it should support query standards in our case we are supporting SQL via MySQL server but it also it should be friendly with industry proven tool standards and we'll talk a little bit about that in a second so having said that how can we translate the traditional deployments into a Kubernetes so here I'm presenting a very high level view of the different pieces for this architecture in Kubernetes the first important thing to say is that we always start from the default images of our product that are available in Docker Hub and this is very important because we are not building anything custom for that is the same images that anyone is available they can download is the ones that we are using for these deployments and of course this is not a restriction you can use any image that you would like with your custom build MySQL and DB cluster if you want but this is not the case our goal here is to provide standard services for this so at the bottom of this we have the data nodes and management nodes I didn't talk about management nodes before but this is how the configuration is provided for for NDB cluster and those are deployed using stateful sets I will explain a bit more that later then you have optionally the MySQL servers and for those we use a deployment and with a replica set so you can scale this horizontally with a number of MySQL as if necessary and the same thing for the data nodes so the idea of using this specifically Kubernetes configurations is because it allows you to grow and to be elastic how does this manage well our goal is to manage this through the NDB operator which is the one that we be talking a little bit today and NDB operator is accessed via the Kubernetes default tools which is the kubectl so this is a very bird's eye view of the architecture of NDB cluster in Kubernetes this is what we already been running for some time and this is what leading the development effort in our NDB operator so let's stop a bit from the architecture in the design and let me show you a glimpse of what you'll get when having an NDB operator and to run my SQL NDB cluster and for us this is really game changer because we managed to set up a full cluster with just two simple steps and I'm guiding you through those I'm not doing a live demo this is a bit screenshots of what I've done in my own laptop so the first step for this is that we use helm so helm is kind of a package manager for the kubernetes project which installs the custom objects and resources that are necessary so we provide a helm shard that defines everything that is required to run and operate at NDB and we do that simply by running helm install NDB operator and the file of the helm shard and you can see here that well it has been deployed it's deployed in a default kubernetes cluster this is all customizable of course depending on the cluster you want it gives you a little bit of state it's deployed revision please ignore that and test suit as well this is still very it's not very but it's still work in progress and that's what it takes as the first step just to install everything so this everything working well so you can run qctl get pods and this will show you that you have an operator and a web hook I'm not going to talk about web hook focus here is still in the operator which is the first thing we are about release so first step installation simple command line very later and you run kubectl apply and the configuration files in kubernetes everything is declarative so you specify how your cluster will look like and you get the operator to do everything for you find the right order to start the processes and configure the network etc to check that we just run kubectl get spots and safe for sets and what you'll see here is that we have two MySQL servers running two data nodes running and management node in this state here because I typed really really fast it says container are still creating but then the Kubernetes will take us through the other steps until you get to be running as you see here in the operator just takes a few seconds so how do you access your cluster then have the headless services with a load balancer to access to the management node the MySQL and MySQL server and here we have a simple example where we run the management client to the IP address where our cluster NDB cluster in Kubernetes cluster is running and you can see that configuration is the configuration and the topology of our cluster so the management node the data nodes and the MySQL servers so how hard it is to do a configuration well the minimum configuration to ones for example prototyping and testing it just takes 10 lines of code nothing else sorry I want to go back because I wanted to explain a few key things so one of the key things is about the kind that you see here NDB that specifies the NDB object or the type of the service that you want to deploy to this NDB another important thing is the container image as you can see we are using the default MySQL images that are provided in Docker Hub we are going to release 8026 so this is coming next with same support for it we specified how many nodes we want have in this case two redundancy level this is for data replicas and here we were very careful in trying to find good names for those because sometimes names that we have in MySQL and MySQL MDB cluster cannot be directly reproduced in Kubernetes because they mean something else so here we picked up redundancy level and MySQL node count two is how many SQL servers we have so our operator will work for NDB cluster and as well for the MySQL server and again this is just a minimal configuration for prototype and testing more production like configuration would have other parameters for instance with data memory some tags for 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 disks or performance oriented configurations so how does this work under the covers so we start in kubernetes the basic unit is a pod and a pod is can be scheduled to a kubernetes node the kind of your computing unit and a pod can have multiple containers in it and we explain this about multiple complainer later so everything that we define for the management nodes and the data nodes is configured as a stateful set and there is three reasons that why stateful sets are very important the first one is that it provides you stability in the network identity and in kubernetes the environment is very dynamic it can change your pods can be running with different addresses so we need to rely strongly on host names and stateful set is the way that we specify these host names the other reason is about persistence so we want to be sure that when you restart your pods with your data inside they run your data nodes and management nodes you can access the same data that you had before because you want to restore your database on the same state so this is very important to use state full sets and the third reason is about what I'm calling orderability so it's the possibility of ordering how the pods will start or the process will start which makes our life very easy in cases of rolling restart upgrades and gracefully start a cluster so this is about the running there are new needs of running so the state full sense then we have the config map which we store as a volume so you can pass the cluster and MySQL configuration we have the persistent volume claims where gives you the persistency volume to store your data your read-a-log your backups etc and everything is available through the headless services as we seen already before in the example I mentioned before that we can run multiple containers in the same pod and this is the default that we have been using so we are using a sidecar container so this is a concept from Kubernetes where you have some other container that connects to your main service and here in the sidecar we use for the bare minimum maintenance container that just contains a lot of access it is idle most of the time but this is a great way to inspect your data so you have an alternative way to access your files your logs and check out if everything is wrong so we highly recommend it as a practice and we have that both for the data node and the management node into more detail the config map is only mounted on management node because this is the service that is responsible for specifying the configuration management nodes connect to the data nodes to supply the config as shown here and the persistent volume plane is mounted on the pods that run the data nodes because of the data of course so this is in a nutshell is the components for which we've built MySQL NDB cluster in Kubernetes We have some challenges and some best practice that we've collected through time while doing this process that I wanted to share with you as a way if in case you want to do this or can already start considering the NDB cluster in a Kubernetes environment so number one is DNS stability I mentioned this a couple of times so IP addresses changes and this is common that people use host names but normally for performance for more stability we well in traditional deployments use IP addresses so this is a bit changing in the mentality that we have to do when using Kubernetes in other products always use host names that also means that you need to consider DNS time to TTL or time to live the time to resolve a new address so you can take some time so you need to be careful about it just to prevent unnecessary failures should be avoided again for the same reason and we have introduced some options for NDB cluster specifically for this environment called allow and resolve host names which prevents management to fail if it cannot resolve the host name when it starts and again this is very dynamic environment so all your code needs to retry 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 because that's even how Kubernetes another important thing that we can't forget and it's really very critical is that we have a highly available availability database and it's not because we put it in a Kubernetes cluster that we automatically have maintained this high availability because Kubernetes can schedule the pods to run for instance in the same rack and your rack goes down and all your cluster goes down so this is not what you desire so projects and eviction API so you can set this with labels and with these labels and create affinity rules such that I want these different pods not to be collocated in the same rack or I want to be in different availability domains or in case of a replication scenario I want to have them in different data centers so we make heavily use of labels and to be able to configure this again in a declarative way in Kubernetes but configured how the pods will be deployed just side note something we learned from experience kubectl delete ignores pod disruption budgets so you can accidentally shut down all of your database nodes so just a bit of a warning so that covers most of my presentation when we talk about NDB operator we also talk about capability levels so it starts on level one which is the basic install automatic application provisioning and configuration management up to level five which is full autopilot with horizontal and vertical scaling and our goal is level five but we are we have to start and we are already supporting level one we have a work in progress native go implementation which is back to be available this summer it will be open source licensed so freely to everyone this expected version already leveraged our NDB self healing capabilities because that was already available so you want to make sure that it is there already and we are now at the stage of collecting customer feedback as input to our roadmap so we strongly believe this is a way to go and take our database to a next step of adoption and usage and reducing costs for our users and for our clients so we are welcoming feedback about the things that are important to you so we can consider them as well and that summarizes my presentation thank you I can take the questions in the end but you feel free to drop me an email if you want to hear anything more about it or specific questions thank thank you tiago si le domande le gestiamo tutte alla fine come dicevamo ma potete ovviamente presentarle anche adesso come preferite adesso cambiamo argomento ritorniamo a marco e sempre nella scia dell'evoluzione delle piattaforme database di my SQL in generale tocchiamo un altro tema importante fondamentale se il database è il luogo che comunque gestisce le informazioni oggi è diventato assolutamente critico poterle elaborare nella maniera più smart possibile per arrivare a quelle informazioni quelle come dicono gli anglosassoni insight che servono poi a modificare anche la tattica della strategia aziendale per cui marco io ti lascio libero di trattare questo nuovo argomento perfetto ti ringrazio andiamo adesso a trattare un nuovo argomento che è my secret wave anzi un nuovo prodotto potremmo dire che è pensato per andare a completare un po' quella che è l'offerta my sequel per parlare di wave devo gioco forza andare a introdurre quello che è il cloud di oracle ne avevamo già parlato nel precedente my sequel day digital edition oracle è molto seria sul suo investimento all'interno del cloud e ha aperto numerosi data center guadagnando sempre più posizioni all'interno dei vari ranking tra cui garner relativi relativi a cloud è già stato annunciato che presto nei prossimi mesi sarà disponibile anche un data center in italia quindi la possibilità di avere anche qui su territorio italiano con tutti i vantaggi di averlo qua su territorio italiano un data center in cloud che ovviamente ospita anche un my sequel che viene chiamato my sequel database service e il my sequel che è fatto dal personale my sequel quali sono i vantaggi principali del fatto che chi fa my sequel offre un database as a service anzitutto che è il my sequel degli sviluppatori è un my sequel supportato tutte le versioni in cloud offrono in qualche modo una versione che consente di avere accesso a un database ma se poi avete dei problemi supporto sull'infrastruttura il database stesso siamo noi supportarlo noi che lo offriamo e quindi in un contesto completamente assistito supportato è un database enterprise non sto a spiegarvi cos'è un database service perché immagino lo sappiate guidato gestito semplice da utilizzare però è comunque my sequel dire my sequel significa parlare di un prodotto di database che è nato per l'ol tp ottimizzato per le transazioni abbiamo più di stimiamo per difetto più di 20 milioni di installazioni nel mondo di my sequel usato dai principali progetti open source eccetera eccetera tutto bene però nel momento in cui si va a volere eseguire delle analisi dal business intelligence a livello di my sequel mancano un po' alcuni elementi alcune strutture che lo aiutano tant'è che si parla si trova nella condizione molto spesso di esportare i dati all'interno di un altro database di conseguenza bisogna affrontare la tematica dell'etl cioè dell'estrazione del dato un'eventuale trasformazione per adattarlo a un database in cui viene caricato l'oad però estrarre il dato significa filtrare le informazioni che potrebbero essere dinamiche quindi potrei avere bisogno a un certo punto di informazioni che ho dimenticato di estrarre devo manipolarlo e quindi non è più quello originale e devo mettere in atto degli adattamenti laddove le strutture il dato possa cambiare e devo trasferirlo devo gestire più database e in tutta questa attività che viene fatta mi ritrovo ad avere delle informazioni che non sono quelle in tempo reale cioè tra quando il dato viene modificato estratto elaborato inserito analizzato presentato passa del tempo ecco che quindi viene a mancare un po' questo elemento di analisi possibile facile con MySQL semplice sui database un po' più piccoli ma meno semplice con quelli più grossi è vero che con la versione 8 abbiamo introdotto Windows Functions con Montable Expression tutta una serie di opzioni ma non sono sempre sufficienti la risposta è stata la creazione del prodotto Heatwave che altro non è che un cluster di macchine che si comporta come uno storage engine così da fornire un'unica interfaccia MySQL database service presente nel cloud un MySQL normalissimo che può essere utilizzato per attività OLTP o per attività di tipo OLAP quindi stessa interfaccia non devo fare cambiamenti alle applicazioni li inserisco all'interno del mio MySQL e possono essere tranquillamente analizzate con delle performance più che accettabili con le performance sufficienti alla loro analisi in altri termini per chiarire meglio dal punto di vista tecnico visto che tutto sommato io un tecnico sono di cosa stiamo parlando ho preparato alcuni grafici un MySQL quando va a essere interrogato va a essere manipolato con le normali applicazioni con i normali comandi di interazione con il MySQL in un cluster ItWave io ho sempre il mio MySQL e l'ottimizzatore quando deve andare a fare delle query reagisce in automatico comprende in automatico se la query è più veloce se viene eseguita sul motore tradizionale in ODB o se è più veloce se eseguita su un cluster sul cluster collegato ItWave che contiene una copia delle informazioni che sono presenti nel mio database e le esegue con tempistiche di ordine di grandezza più efficienti io ho potuto testare con mano delle semplici select count che sono delle full table scan contami quanti record ci sono in una tabella su una tabella piccola relativamente piccola era più veloce sul motore in ODB me lo ha eseguito all'interno del motore in ODB su tabelle da decine centinaia di milioni di record me l'ha eseguita sul motore ItWave senza che io abbia dovuto dare nessun suggerimento nessuna modifica nessuna alterazione alla query in quanto tale l'ottimizzatore lavora in automatico interessante sapere che i dati sono disponibili ma interessante sapere anche che quando io vado a fare un'attività di modifica della mia informazione questa modifica va ovviamente a essere riportata sul mio motore in ODB ma viene anche aggiornata in tempo reale su quello che è il cluster disponibile di ItWave quindi quando io vado ad operare normalmente con delle insert e a fianco delle query di analisi il sistema mi permette di avere delle attività di business analytics di analisi delle informazioni sul dato in tempo reale quindi man mano si modifica io vedo il risultato della mia query e questa è una cosa che prima non era possibile fare non soltanto le performance ma anche la tempistica con cui io reagisco ai cambiamenti delle informazioni all'interno del mio dataset tutto questo è stato ottenuto con un'architettura pensata proprio per le performance quindi memory sfruttare i nodi del cloud e con algoritmi dedicati e ottimizzati quando parliamo di memory significa che il dato all'interno di un cluster rate wave viene suddiviso per colonne diventa un dato colonnare con uno sharding quindi uno split una suddivisione delle informazioni su più nodi da due in poi così da sfruttare un'esecuzione parallela e sfruttare la suddivisione delle informazioni per renderla il più efficiente possibile sfruttando la possibilità di avere un'architettura di più core e più server che migliorano il fan out dei risultati questo è stato possibile ottenerlo anche perché il prodotto è disponibile nel cloud quindi abbiamo una conoscenza un controllo un'ottimizzazione anche della componente hardware che sarebbe estremamente difficile da raggiungere in una situazione on premise abbiamo la possibilità di gestire anche la flessibilità cioè l'aggiunta eventuale di nuovi nodi con l'ottimizzazione specifica per quei per quell'hardware su cui andiamo a creare cluster ottimizzato quindi con parametri di configurazione algoritmi uno shape cioè una dimensione della macchina virtuale che ospita i processi ottimizzato per sfruttare al meglio quello che è la memoria e il caricamento sfruttare le interfacce di rete e le comunicazioni in tranodo che devono ovviamente essere messe in atto per poi avere un risultato univoco da presentare come una query unica l'obiettivo era quindi quello di fornire un MySQL perché di fatto dal punto di vista applicativo dal punto di vista delle query dell'interazione è un MySQL che permetta però di scalare quelle che sono le query più pesanti che potrebbero richiedere ore se non addirittura giorni ad essere eseguite ridotte in secondi o frazioni di secondo e una scalabilità al crescita dei dati stiamo parlando di terabyte di dati e di una molteplicità di nodi due tre quattro nodi che alla loro crescita mantengono una scalabilità di performance quasi perfetta dalle nostre statistiche come vedete nel grafico riusciamo ad avere una scalabilità superiore al 90% e performance eseguite con il test di performance standard tpch che rispetto a un MySQL 8 sono mediamente del 400% poi mediamente significa che abbiamo query che hanno un miglioramento che è di tre ordini di grandezza quindi invitiamo veramente voi se avete esigenze di questo genere a provarlo a testarlo e a verificare nel vostro caso d'uso con le vostre query qual è l'effettivo miglioramento di cui potete beneficiare siamo talmente orgogliosi del miglioramento e delle performance che abbiamo ottenuto che abbiamo fatto anche dei confronti con altri database utilizzati per questo tipo di workload un esempio è Redshift dove si è affrontato dal punto di vista commerciale quindi di quanto mi possono costare le istanze che si è affrontato dal punto di vista delle performance quindi delle velocità di esecuzione delle query il prodotto Heatwave ha dimostrato di essere estremamente appetibile faccio notare una cosa particolare è la prima volta che Oracle fa ufficialmente dei confronti comparativi e sulle pagine di Heatwave ci sono anche i link per replicare i test con indicazione su come rifarli per esempio con Redshift e anche con altri database per vedere il confronto di performance addirittura le specifiche di come configurare di come ottimizzare ognuno di questi database sono stati pubblicati su una pagina GitHub con tanto di spiegazione di come rieseguire test per permettere a chiunque voglia di andare a replicare in casa sua e dire no non mi fido di quello che state dicendo voglio farlo io quindi mi preparo gli ambienti e ripeto gli stessi test per verificare come sta andando è una credo sia l'unico prodotto in casa Oracle che abbia mai fatto una cosa di questo genere pubblicamente disponibile quindi un prodotto che fornisce un'interfaccia MySQL per tutte le applicazioni OLTP poiché l'interfaccia è MySQL e non richiede di fare delle modifiche dei cambiamenti applicativi può essere utilizzato con i normali strumenti di Analytics che lavorano già nativamente con MySQL che sia l'Oracle Analytics Cloud piuttosto che altri il vantaggio di averlo in cloud è che essendo dati di una dimensione rilevante posso beneficiare della flessibilità e dell'economicità del cloud per andare a scalarli per andarli a sfruttare e utilizzare al meglio così da non dovermi preoccupare troppo delle risorse hardware di storage e di memorizzazione dell'informazione il fatto di avere un MySQL come interfaccia consente anche di avere una comunicazione con i database esistenti non voglio anticipare nulla perché ne parlerà poi Vittorio nella sua presentazione dei casi d'uso ma mi piace mettervi questa pulce nell'orecchio se l'interfaccia è un normale MySQL 8 allora si aprono scenari di interazione anche ibrido tra quello che è il mondo magari applicativo che ho on-premise e il mondo analytics che posso portare sul cloud così da beneficiare del fatto di avere on-premise la mia applicazione così com'è e sfruttare le potenzialità dell'analytics con la flessibilità e i vantaggi del cloud all'interno dell'ambiente senza dover stravolgere quello che è la mia infrastruttura ma ripeto non voglio anticipare quello di cui parlerà poi Vittorio e riassumo quindi quello che è il vantaggio del cloud del MySQL database service all'interno di Oracle è che avete un database MySQL che ha anche la possibilità di aggiungere un cluster ItWave con elaborazione real time delle query di tipo OLAP che principalmente che originariamente erano un po' troppo onerose per MySQL senza la necessità di dover operare delle trasformazioni delle operazioni ETL senza doversi appoggiare a database dedicati quindi semplicità automazione basato sul prodotto che già conoscete che è MySQL non vi viene chiesto di conoscere di più o di alterare quello che è la vostra competenza su un database service riprende un po' quello che diceva anche Tiago l'obiettivo dei clienti il modo spostamento è quello su un sistema sempre più semplice sempre più automatizzato che mi concentra di concentrarsi sul business ok con questo ho finito la mia presentazione e passo la parola agli altri sono disponibili ovviamente per domande durante la sessione Q&A grazie Marco hai un po' spoilerato Vittorio ma penso che lui non ho voluto mettere il polce nell'orecchio più che spoilerare perché dopo il grafico tecnico e la spiegazione tecnica la farà vedere lui benissimo tu hai spiegato quello che è possibile fare adesso coinvolgiamo di nuovo gli utenti e come in precedenza chiediamo loro cosa in effetti stanno facendo e che problematiche stanno incontrando vi facciamo una domanda specifica cioè se utilizzate già MySQL per delle applicazioni di analytics e in particolare con quali reazioni cioè se volete ad esempio delle prestazioni migliori è la risposta B se usate le procedure ETL per fare esternamente gli analytics risposta C e poi c'è chi non ha al momento applicazioni di analytics ma mi viene da dire in futuro bene o male tutti dovremo avere applicazioni di analytics perché la parte dell'analisi dei dati approfondita sta diventando fondamentale vedo che le risposte si stanno più o meno stabilizzando abbiamo iniziato con una quota di non analytics decisamente alta ma vedo che le cose stanno cambiando ok siamo più o meno stabili per cui io fermerei il televoto e commentiamo i risultati allora abbiamo ancora una fetta di non analytics abbastanza importante questo è come minimo un segnale che c'è margine di crescita e una certa quota di persone che utilizzano ancora delle procedure diverse quindi non direttamente MySQL ma l'utilizzo di altre piattaforme Marco visto che hai introdotto l'argomento lascio a te il primo commento certamente vedo che giustamente c'è ancora non tutti che hanno si sono spostati sul discorso di analytics però il business moderno richiede tempi di adattamento ai cambi del mercato rapidi il famoso time to market reagire a quelle che sono le esigenze e per poter reagire alle esigenze devo tenere sotto controllo quelli che sono numerosi aspetti di interazione con i clienti attività dei clienti esigenze dei clienti cose che vengono fatte sull'analisi delle informazioni che possego ecco perché sempre più le tematiche di analytics diventano critiche cruciali per le aziende non mi stupisce che qualcuno non abbiano le attività di analytics perché MySQL è usato in numerosi contesti quindi potrebbe anche essere usato da aziende che non hanno ancora affrontato questa tematica o hanno dei casi è evidente come le cose stanno cambiando le prime tre colonne evidenzano esigenza oggettiva di analytics perché vedo un 30 più 15 facciamo 45 più altri 5 sono almeno il 50% dei partecipanti hanno necessità di analytics e usano MySQL almeno il 22 23% laddove altri hanno MySQL ma hanno bisogno di strumenti che vadano a risoddisfare queste esigenze mi fa pensare che l'offerta di Heatwave che abbiamo messo sul campo effettivamente può essere interessante per il mercato così come sta evolvendo sì diciamo che la fotografia per la mia esperienza anche con altri sondaggi in altri settori è una fotografia di un mercato che si sta evolvendo di esigenze che stanno venendo fuori ovviamente ci sono utenti che hanno già affrontato e parzialmente risolto queste esigenze e altri che lo stanno ancora affrontando Michelangelo se tu vuoi darci una tua opinione per me uno degli aspetti più interessanti riguarda il fatto riguarda la risposta C esportiamo i dati MySQL verso altre piattaforme perché dico che è interessante perché questo comporta una perdita di tempo spesso vengono fatti dei batch magari i classici batch notturni per non andare a inficiare sull'operatività quotidiana quindi anche i dati che uno può andare ad analizzare sulla sua piattaforma di analytics di terze parti comunque si ha e a posteriori come minimo il giorno dopo questo è lo scenario più tipico quindi da questo punto di vista avere la possibilità di fare analytics praticamente in real time perché Marco ci ha parlato di meno di un secondo per la disponibilità dei dati su cluster heatwave quindi è una bella svolta perché tu potresti andare a cambiare il tuo approccio verso l'analisi dei dati quindi questo secondo me rappresenta uno degli aspetti più interessanti poi il discorso di utilizzare o meno uno strumento di terze parti quello dipende quello poi potrebbe essere ancora esistente ma non devi andare più a esportare i dati quindi lo strumento che usi per la reportistica ad esempio potresti appoggiarlo direttamente sul tuo heatwave anziché dover esportare i dati verso una terza un terzo strumento diciamo beh non dimentichiamo qui aggiungo io un commento che noi abbiamo parlato di analytics ma non abbiamo parlato di quanto stia evolvendo anche il mondo degli analytics per cui in realtà anche lì c'è una progressiva evoluzione da piattaforme molto proprietarie molto verticali quasi a silo verso ambienti un pochettino più aperti questa evoluzione impatta anche su questi risultati Andrea Vittorio se volete aggiungere qualcosa in merito sì allora io vorrei prendere in esame la parte di dati che è stata un po' tralasciata finora nei commenti che è la risposta di non abbiamo attività di analytics e vorrei chiedere a coloro che hanno scelto la risposta di pensare al perché hanno risposto così non le hanno perché effettivamente non ne hanno bisogno o perché stanno tralasciando per il momento il discorso delle analytics ora se effettivamente si svolge un'attività per cui non si ha bisogno di analytics premesso che sarebbe interessante scoprire per noi quale sia perché oggi qualsiasi attività ha bisogno di analytics ecco vorrei accentuare il fatto che heatwave si rivolge anche a chi ha tralasciato per ora il discorso delle analytics perché in un modo molto semplice replicando i dati su MySQL in un modo molto trasparente è possibile avere un motore di analytics in cloud che può andare a servire tutta una serie di applicazioni che si interfacciano con MySQL e che possono con poco investimento in termini di tempo come vedremo poi nella prossima presentazione portarci ad avere una soluzione di analytics completa e praticamente come dicono gli anglosassoni out of the box io credo che abbiamo fatto bene a parlare oggi di heatwave perché questo come dicevi tu ci fa vedere una fotografia delle esigenze che ci sono oggi sul mercato italiano e di come queste esigenze si stanno evolvendo per le persone che hanno risposto che hanno dato la risposta a C quindi che stanno utilizzando piattaforme alternative questa penso che possa essere un'alternativa alle soluzioni che stanno già utilizzando e nel frattempo ci prepariamo ad accogliere anche i clienti che non sono ancora arrivati a questa modalità di gestione dei dati e siamo qui per accoglierli con ovviamente versioni successive del prodotto che miglioreremo ovviamente andando avanti ecco sì è importante sottolineare il tema dell'evoluzione perché stiamo parlando di due ambiti che stanno comunque crescendo stanno evolvendo e in parte stanno convergendo non solo per quello che succede nel mondo ma è sì quel pur con la sua importanza ma anche al di fuori io non vorrei però togliere altro spazio da vittorio visto che stiamo andando un pochettino lunghi e quindi passerei proprio a lui che ci parla di un altro tema che è molto importante perché all'inizio dicevo stanno succedendo tante cose e nel mondo dei database as a service forse ne stanno succedendo più che nel resto del settore database nel senso che sicuramente tanti si stanno avvicinando a questo mondo come utenti ma anche come fornitori quindi prego Vittorio grazie Francesco salve a tutti per chi era presente alla precedente edizione del MySQL di Italia probabilmente non sono un volto nuovo per tutti gli altri ci conosceremo ora parlando dei casi d'uso più rilevanti per MySQL database service e hitwave qualche parola su di me io sono un utente Linux e MySQL dal 2006 circa nel 2017 mi sono unito alla famiglia di MySQL dentro Oracle e mi si può vedere in G mi si poteva vedere almeno ora mi si può vedere principalmente online in giro per le conferenze in diversi paesi d'Europa perché attualmente faccio base a Varsavia e quindi appunto avevo finora un lavoro molto mobile che ora si è temporaneamente spostato online dal divano di casa però si spera si possa riprendere quanto prima di cosa parleremo oggi parleremo delle ultime novità dentro la soluzione di MySQL database service vedremo i principali casi d'uso su hitwave e ci concentreremo su cosa potrebbe riservarci e riservarvi il futuro cosa se ricordate nella precedente edizione vi avevo parlato di MySQL database service per chi c'era cosa è cambiato da allora MySQL database service per chi si fosse perso la mia precedente presentazione circa sei mesi fa è un servizio totalmente gestito basato su MySQL Enterprise sviluppato e supportato dal team di MySQL è nel cloud di Oracle e questo comporta diversi benefici come ad esempio la compatibilità al 100% con le tecnologie Oracle è basato su MySQL quindi è compatibile al 100% con il MySQL che avete on premise ed è costruito al 100% usando MySQL Enterprise quindi si andrà a convergere verso la totale compatibilità e il totale utilizzo di quelle che sono le funzionalità caratteristiche della funzione Enterprise e il supporto che c'è dietro a questo prodotto è lo stesso supporto MySQL che cosa c'è di nuovo da quando ne abbiamo parlato l'altra volta c'è una aggiunta molto importante si tratta oltre a HeatWave di cui ha parlato Marco in modo molto esteso dentro il MySQL database service è stata aggiunta l'alta disponibilità quindi la resilienza ai downtime è possibile quindi deployare con un click come si vede nell'immagine un MySQL database service in alta disponibilità su tre nodi basato su una tecnologia molto consolidata come la group replication per azzerare il azzerare virtualmente il downtime in quanto si ha a disposizione il failover automatico che non è assolutamente cosa da poco con le istanze ma con le istanze che si rendono automaticamente conto degli eventi catastrofici e eseguono automaticamente il failover e con la possibilità che sta per essere introdotta dei rolling upgrade quindi degli upgrade con zero downtime ora andiamo a vedere che cosa si può costruire utilizzando MDS e 8Wave i casi d'uso principali per quanto riguarda MDS 8Wave possono essere categorizzati in queste macro aree la replica dall'on premise verso un'infrastruttura cloud di un'istanza MySQL preesistente applicazioni su altri cloud provider in questo caso portal porterò l'esempio di Azure che utilizzano MDS come un data layer poi estensione dell'on premise quindi avere un'infrastruttura on premise che deploya una particolare applicazione un particolare servizio verso il cloud rendendolo disponibile verso il mondo esterno e le analitiche in cloud iniziamo con ordine il caso d'uso diciamo più immediato più semplice da realizzare è la replica di un MySQL on premise verso il cloud anche solo per un discorso di disaster recovery perché magari non si ha a disposizione un data center di disaster recovery quindi si vogliono quantomeno mettere al sicuro i dati ecco grazie a MySQL database service con uno sforzo di implementazione minimo e con poca spesa si riesce a mettere in piedi un data center di replica nel cloud di Oracle quindi utilizzando un'infrastruttura molto sicura e estremamente performante e si può connettere in sicurezza tramite un canale VPN utilizzando i componenti già offerti dal cloud di Oracle la comunicazione tra l'infrastruttura on premise e il cloud quindi questo sito virtuale di disaster recovery poi il secondo caso d'uso è il caso d'uso riguardante un'applicazione che esiste su un cloud provider di terze parti in questo caso Azure che però vuole utilizzare MySQL database service nel cloud di Oracle perché ho portato l'esempio di Azure perché data la partnership tra Microsoft e Oracle in diversi data center c'è la possibilità di una connessione diretta tra il cloud di Azure e quello di Oracle grazie al Fast Connect e quello che in Azure si chiama Azure Express Route che è l'equivalente Microsoft del Fast Connect quindi si può accedere ad alta velocità quindi senza eventuali problemi di latenza al MySQL database service che può essere deployato in alta disponibilità alta disponibilità gestita automaticamente basata su tre istanze con il failover automatico e senza downtime anche per quanto riguarda gli upgrade quindi questo è un discorso molto molto conveniente che va a sfruttare le potenzialità massime di MySQL Enterprise perché ricordiamolo MDS è l'unico servizio cloud su cloud pubblico basato su MySQL Enterprise e appunto si può andare anche a sfruttare si può andare a sfruttare il cloud di Oracle per il database su MDS lasciando l'applicazione su Azure così non dovendo fare lo sforzo di migrare l'applicazione molto spesso viene ad essere molto più oneroso dello sforzo di migrare i dati specie se l'applicazione è stata sviluppata utilizzando dei meccanismi propri di un altro cloud dal livello infrastrutturale un caso d'uso molto interessante il cloud ibrido come estensione di un data center proprietario quindi cosa abbiamo in questo caso in questo caso abbiamo un data center proprietario e un cliente che magari vuole sviluppare un'applicazione da offrire in cloud perché magari perché si vuole sfruttare magari perché questa è un'applicazione che verrà adesso a servire un gran numero di utenti e si vuole sfruttare la potenza di fuoco di un'infrastruttura cloud quindi a tal proposito è possibile unire secondo un canale di comunicazione sicuro tramite VPN il data center cliente con l'infrastruttura cloud e al tempo stesso aprire l'infrastruttura cloud verso l'internet pubblico in modo assolutamente sicuro utilizzando come data store MySQL database service con l'opzione dell'alta disponibilità perché come vedete in ogni slide io ho acceso l'opzione dell'alta disponibilità perché di indipendenza dalla criticità del servizio può essa divenire una cosa di cui si ha assoluto bisogno quindi come vediamo qui ci sono due web server in ridondanza serviti da un load balancer che a sua volta ha un altro load balancer in standby che fanno riferimento si appoggiano per la parte del database a MySQL database service il tutto deployato in diverse subnet in due availability domain diversi quindi in due data center diversi all'interno della stessa regione in questo modo possiamo avere un data center del cliente che non va a farsi carico di ulteriore lavoro ma lo fa l'outsourcing di questo ulteriore lavoro verso un'infrastruttura verso l'infrastruttura OCI che come vedemmo a marzo scorso dall'esempio di Zoom che è andato a finire su tutti i giornali su tutti i siti web che parlano della materia è un'infrastruttura che riesce ad avere performance estremamente buone altro caso d'uso molto interessante allo sviluppo di un'applicazione cloud native direttamente in container anche in questo caso si può lasciare al cliente tutto il piacere dello sviluppo facendoci noi carico di fornire l'infrastruttura e di mantenere anche l'infrastruttura containerizzata su Kubernetes avendo la possibilità come nella presentazione precedente di aprire il traffico verso l'internet pubblico il tutto utilizzando ancora MySQL database service che può essere messo in comunicazione molto facilmente aprendo semplicemente delle regole di comunicazione tra varie sottoreti all'interno della stessa rete cloud sempre in alta disponibilità così da avere non solo la ridondanza offerta da Kubernetes su vari worker node magari ma anche l'alta disponibilità nativa di MySQL database service avendo un'infrastruttura che ci garantisce alta disponibilità alla modernità di un'applicazione cloud native performance sull'utilizzo dei dati contenuti in MySQL database service senza dover muovere un muscolo per amministrare questa infrastruttura solo badando al fatto che la configurazione rispecchi le necessità correnti quindi mi sembra una cosa assolutamente non secondaria assolutamente non da poco ultimo ma non meno importante il caso d'uso che coinvolge le analitiche in cloud quindi si può utilizzare un data center on premise una consultazione tramite l'internet pubblico per replicare come abbiamo visto nel primo caso d'uso analizzato i dati verso MySQL database service e poi utilizzare un cluster it wave in modo trasparente per processare le query di tipo analitico collegando il tutto a una soluzione di analitiche che trasforma queste query che ci restituiscono un gozzillione di dati in grafici colorati perché come diceva Marco in un intervento precedente non è che i colori siano belli però aiutano di molto la comprensione e la contestualizzazione dei dati quindi le operazioni di tipo analitico che sono estremamente complesse vanno a elaborare e proporre una mole di dati molto spesso in grafici multidimensionali va da sé che avendo una soluzione come ad esempio Oracle Analytics Cloud che va a dare un senso a tutto ciò aiuta di molto la comprensione anche poi perché queste analitiche andranno sottoposte a figure di tipo anche meno tecnico e quindi si riuscirà a contestualizzarle sicuramente meglio questo è un caso d'uso molto semplice c'è la soluzione di analitiche in una in una rete pubblica con MySQL Database Service 8Wave in una rete privata molto protetti da tutto il resto del mondo con accessi limitati a quelli che sono gli accessi che necessita la soluzione analitica e così ci siamo presi cura anche degli aspetti di sicurezza questo ci evita tutte le complessità di portare fuori i dati su un'altra soluzione che era stato anche un risultato molto importante della survey e incoraggia quelli che ancora non si sono presi cura delle analitiche a prendersene cura perché mettere in piedi una soluzione di questo tipo non è difficile non è assolutamente difficile non richiede minimo sforzo per la messa in opera e soprattutto richiede praticamente zero sforzi per la gestione perché ci prendiamo cura noi degli upgrade ci prendiamo cura noi di tutto lasciando al cliente solo l'incombenza di prendersi cura di quello che conta veramente cioè i dati qualora voleste mettervi qualora vi fosse piaciuta la presentazione qualora io sia riuscito ad ispirarvi come spero di aver fatto e voleste mettervi all'opera immediatamente è possibile tramite la pagina web delle architetture di OCI delle reference architecture avere architetture già pronte da cui iniziare che sono deployabili sia tramite github che direttamente tramite il bottone che vedete qui nella slide deploy to oracle cloud tramite infrastruttura come codice basata su Terraform quindi si può fare un discorso molto semplice importare del codice Terraform dentro del codice Terraform tra l'altro già disponibile e facilmente modificabile perché Terraform è un linguaggio di markup quindi è molto descrittivo e di facile comprensione è possibile importarle nell'OCI resource manager che è una caratteristica unica di OCI e deployarle direttamente tramite Terraform oppure sia possibile anche fare il processo inverso è possibile deployare un'infrastruttura cloud e poi tramite il resource manager trasformarla in codice Terraform per poterla riutilizzare caratteristica peraltro credo unica di oracle cloud e è possibile a latere di tutto ciò servirsi del gozzillione di architetture già presenti e ben documentate sulla pagina delle reference architecture che hanno il corrispettivo codice Terraform già presente su github quindi iniziare a deployare a creare architetture in oracle cloud è veramente molto facile e molto immediato io senza avere background di sviluppo sono riuscito a padroneggiare l'utilizzo di Terraform in una settimana e mezza quindi è veramente una cosa alla portata di tutti quindi che si fa ora abbiamo visto come MySQL database service StateWave forniscano una soluzione completa di database as a service più le analitiche sia nella presentazione di Marco sia nella mia abbiamo visto come tutto ciò trova applicazioni varie disparate nel mondo reale adesso magari vi state domandando quanto costa tutta questa bellezza potete utilizzare la pagina del cost estimator per farvi un'idea in assoluta autonomia dei costi che come abbiamo visto già precedentemente rispetto alle performance che offrono e rispetto anche ad altre soluzioni sono veramente veramente molto contenuti quindi io vi direi adesso dopo questo evento iniziate direttamente a deployare contattateci è possibile avere un trial di massimo 500 dollari per un periodo di 30 giorni per costruire le vostre architetture di prova utilizzando mysql database service e heatwave noi vi stiamo aspettando detto ciò vi ringrazio e ripasso la palla alla regia aprendo io siamo nella sessione domande e risposte vittorio diceva se vi abbiamo ispirato delle domande ci sono quindi evidentemente vi abbiamo ispirato c'è un QR code che fa riferimento a una cosa che Michelangelo aveva già spiegato all'inizio ti chiederei Michelangelo di spiegarla di nuovo perché poi c'è una domanda del pubblico una domanda logistica che è collegata sì assolutamente è un semplice questionario di gradimento in più attraverso questo questionario l'ho compilato in un attimo veramente potete richiedere la vostra giornata di assessment gratuita effettuata da remoto dai nostri DBA esperti su mysql i i primi 25 che faranno questa richiesta potranno riscuotere diciamo riscattare questa questa giornata quindi siete liberi di farlo adesso durante la sessione Q&A lo lascerò aperto anche dopo la domanda collegata è questa quando abbiamo fatto l'evento nel 2020 abbiamo distribuito dei crediti gratuiti per provare database service è possibile averne altri anche per ItWave il gratis piace scusate avevo il microfono in muto la versione di ItWave non è disponibile nella versione community per il semplice motivo che per le ottimizzazioni inserite legate all'hardware è stata rilasciata soltanto nel cloud dove abbiamo il pieno controllo delle performance per riuscire ad ottenere i risultati che abbiamo ottenuto in più perché come dicevo prima c'è la necessità durante le attività di analytics di avere a disposizione storage che cresce continuamente nel cloud è più semplice avere questo tipo di attività ok c'è anche un'altra domanda di quella che definisco logistiche ci chiedevano se c'è un workshop su NDB cluster per Kubernetes essendo l'evento virtuale no però io vi passo la richiesta come stimolo il workshop anche lui piace assolutamente chi volesse avere un approfondimento sulle tematiche o quant'altro siamo qui disponibili contattateci e sicuramente troviamo il modo di mostrarvelo abbiamo un po' di domande che riguardano MySQL database service la prima mi chiedono se la funzione di alta disponibilità ha dei costi aggiuntivi rispetto alla versione che non ne ha la 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 funzione di alta disponibilità in quanto coinvolge tre istanze ha ovviamente il costo di tre istanze ok è stata aggiunta la funzionalità di auditing che non era presente allora in questo momento purtroppo non è ancora stata inserita si stanno facendo altre attività di logging security eccetera è nella lista in questo momento ci sarà ma non è ancora stata messa ok un'altra domanda ancora che è un po' tecnica dovendo aprire l'istanza mds verso cloud esterni quale impatto sulle prestazioni è dovuto a router o reverse proxy da installare nel cloud oracle per raggiungerla qui è una technicality che non su cui non so chi voglia sfogarsi un po' ok la prendo io allora il discorso di apertura del MySQL del traffico di MySQL database service verso cloud esterni è un discorso molteplice e può essere realizzato in diversi modi il modo migliore e più sicuro è sempre utilizzare qualora fosse possibile una VPN qualora si voglia intraprendere l'approccio un po' più smanettone di aprire il traffico database verso l'internet pubblico senza farlo da punto a punto come si fa con la VPN si può utilizzare come è stato giustamente notato il MySQL router piegandone un po' diciamo plasmandone un po' l'utilizzo a questa particolare esigenza in questo caso le cose da tenere presente a mio vedere sono sia la latenza della rete stessa perché qualora si apre il traffico verso l'internet pubblico non c'è garanzia né per quanto riguarda la sicurezza né per quanto riguarda la prestazione e appunto sia poi il dimensionamento corretto dell'istanza dove si va a deployare il MySQL router quindi bisogna fare caso al massimo numero di connessioni verso il router e scusate il tecnicismo ai descrittori degli open file sia nel servizio del MySQL router sia nel sistema operativo Linux ok tutto chiaro ho un paio di domande una domanda che riguarda ovviamente la parte di Kubernetes che prevedibilmente è di interesse come posso fare per rilasciare cluster in odb su un'infrastruttura basata su Kubernetes anche qui siamo sul tecnico chi vuole dedicarsi allora posso rispondere io così mi alterno con Vittorio il primo prodotto che abbiamo annunciato per la differenza rispetto a quello che è il prodotto MySQL Server è quello per NDB e siamo veramente orgogliosi di annunciarlo e di presentarlo ovviamente è il primo significa che non ci fermiamo qua e che presto arriverà anche quello che permetterà di deployare anche server e cluster di NDB cluster quindi i prodotti MySQL gestibili pienamente all'interno di cluster con Kubernetes Una domanda proprio mirata su quali region sono disponibili MDS e Heatwave posso rispondere io a questa MDS e Heatwave sono disponibili su 22 region in tutto il mondo e ho il piacere di annunciarvi che presto sarà disponibile anche in Italia so che alcuni clienti aspettavano questo da molto tempo non possiamo condividere data ovviamente per ragioni di compliance però è una questione di pochi mesi fino al rilascio della nuova region italiana questo mi sembra un'ottima notizia per gli utenti italiani perché è una cosa di cui si parlavano è arrivata anche una domanda che è un po' più se vogliamo filosofica e rimanda un po' a quello che dicevo prima quindi grazie ci sono sempre più offerte del mondo database as a service ovviamente e ci chiedono perlomeno sono arrivati degli input in questo senso questo sta portando la preoccupazione del database as a service lock-in chiedono la vostra opinione come giudicate questo problema eventualmente come lo affrontate io direi che Marco e Andra sono forse quelli più portati per questo tipo di domanda se volete poi anche gli altri assolutamente dal punto di vista tecnico ti dico che non è una cosa così da escludere non è una cosa così remota nel senso che le implementazioni che si fanno nel cloud sono sempre più customizzate e personalizzate è un po' anche in questo senso l'intenzione di Oracle di MySQL di offrire un prodotto che sia il MySQL a partire dal branch dal codice ufficiale quindi il codice che viene eseguito disponibile su cloud è quello disponibile sull'on-premise un cliente che si appoggia al MySQL database service e a Heatwave ha la garanzia che funziona la sua applicazione con un MySQL che sia on-premise o che sia potenzialmente disponibile se in versione community anche da altri fornitori è chiaro però che non posso garantire sugli altri cloud cloud provider perché ognuno mette qualche vincolo per esempio senza far nomi ho visto dei cloud provider che mettono dei limiti sulle repliche che possono essere fatte o su è un tema per cui noi che siamo un'azienda open source tendiamo a voler essere più aperti possibile più compatibili possibile questo lo posso confermare da quello che stiamo facendo andrà tu vuoi aggiungere qualcosa non so da un punto di vista commerciale è proprio come dicevi ci sono delle considerazioni più che altro tecniche da tenere in considerazione a differenza della versione on-prem che è pienamente compatibile mi riferisco alla versione community con la versione commerciale in quel caso piena compatibilità non c'è nessun tipo di lock in diciamo che sul database service ci sono un po' di considerazioni tecniche da tenere presenti una nota interessante tanto per dire nel cloud di oracle perché uno dei problemi tipici del cloud lock in non paghi per entrare paghi per uscire la famosa battuta ok i primi 10 terabyte al mese in uscita da cloud di oracle sono gratuiti 10 terabyte al mese in uscita gratis direi che uno che è entrato nel cloud di oracle e volesse uscirne da mysql non è spaventato dal fatto che chissà quanto mi costa puoi uscire non è spaventato dal fatto che ho il database incompatibile perché è un mysql quindi certo dovrà fare le considerazioni sulle features sulle funzionalità eccetera ma se vuole uscire ha già fatto questo tipo di controllo sì questo ci riallaccia un po' all'impostazione iniziale siamo arrivati in uno stadio in cui il database è uno strumento fondamentale e critico l'approccio metto questo e vedo quello che succede perché tanto chissà è plausibile ancora in molte realtà per carità non è che tutti devono essere assolutamente strategici però diventa limitante poi in un numero sempre sempre crescente di realizzazioni anche perché rimanendo in linea con i sondaggi che abbiamo fatto certe tematiche come gli analytics come cloud database eccetera stanno diventando sempre più importanti chiederei magari a Michelangelo se vogliamo fare un giro di commenti finali beh sul discorso del lock-in ad esempio è letteralmente interessante in genere il lock-in verte su tre problemi la compatibilità ad esempio del formato le competenze la disponibilità di competenze e terzo aspetto riguarda i costi ad esempio i costi sostenuti up front soprattutto quando c'erano le famose licenze perpetue sia nel caso specifico del cloud i costi in uscita da questo punto di vista ad esempio Marco e Andra hanno dato le risposte le competenze rimangono le stesse perché il prodotto è perfettamente compatibile e ciò che hai imparato da una parte lo applichi dall'altra i formati e le funzionalità sono equivalenti a quelle del prodotto on premise ovviamente a parte la scalabilità e altre cose che riguardano più l'infrastruttura che il prodotto di per sé il terzo aspetto è quello dei costi di uscita quindi da questo punto di vista diciamo le mie preoccupazioni non verterebbero sull'lock-in ma ad esempio su come prepararmi a affrontare un approccio ibrido ad esempio come quello che ha descritto Vittorio quindi avere una quota a parte ancora on-prem perché magari per normativa o per altri motivi non voglio ancora esportarli e invece prepararmi a iniziare a spostare qualcosa sul cloud per poter giocare con Heatwave quindi questo potrebbe essere uno scenario interessante sì d'altronde il cloud ibrido in molti settori applicativi è diventato la norma siamo stranamente in orario quindi questo è un altro elemento positivo della giornata e siccome siamo sostanzialmente quelli che in questo momento stanno impedendo alle persone di raggiungere la mitica pausa pranzo anche se nel mondo degli eventi virtuali non è più così così critica a questo punto non mi resta che ringraziare voi che avete partecipato ci avete raccontato le novità principali del mondo di MySQL e le nuove possibilità applicative quindi grazie e ringraziamo poi tutti noi coloro che ci hanno seguito siete stati tanti anche quest'anno e quindi direi che in ogni caso diamo appuntamento come minimo al prossimo MySQL Day grazie a tutti